l'istruttoria preliminare l'inizio della carriera dell'impiegato perciotin pieter ilie perciotin che abbiamo lasciato mentre bussava con tutta la sua forza al portone serrato a chiave della casa della mercantessa morozova riuscì naturalmente a farsi sentire quando fenia sentì battere alla porta con tanta insistenza dopo che un solo paio d'ore prima si era presa quel forte spavento e a tuttora non si risolveva ad andare a letto per l'agitazione e i pensieri si spaventò un'altra volta a tal punto da piombare quasi quasi in una crisi isterica pensava che fosse ancora Dmitri Fiodorovic malgrado l'avesse visto partire con i propri occhi perché nessun altro poteva bussare in modo così insolente e la si slanciò verso il portinaio che si era svegliato e stava andando a vedere chi bussava e prese a supplicarlo che non lasciasse entrare nessuno ma il portinaio interrogò il visitatore e sentendo il suo nome e che voleva vedere Fedosia Markovna per una faccenda della massima urgenza si decise finalmente ad aprirgli Piotr Ilie fu introdotto nella cucina di Fedosia Markovna ma ella gli chiese di far entrare anche il portinaio per star più tranquilla Piotr Ilie cominciò a interrogarla e apprese in un baleno i particolari più importanti e cioè che quando Dmitri Fiodorovic era corso via alla ricerca di Grushenka aveva preso il pestello dal mortaio ma poi era tornato senza pestello e con le mani insanguinate e il sangue continuava a gocciolare e gocciolava gocciolava esclamava Fenia evidentemente questo orrido dettaglio era solo frutto della sua immaginazione turbata ma le mani insanguinate le aveva viste anche Piotr Ilie anche se il sangue non gocciolava e lui stesso aveva aiutato a lavarle la questione da chiarire però non era con quanta velocità si fosse rappreso il sangue nelle sue mani ma piuttosto dove correva Dmitri Fiodorovic con quel pestello correva davvero da Fiodor Paolovic e su quali basi si poteva giungere a una simile conclusione Piotr Ilie insisteva nel ritornare su questo punto e sebbene non riuscisse ad arrivare a una conclusione definitiva tuttavia si fece una mezza convinzione che Dmitri Fiodorovic non poteva essere andato altrove che a casa del padre e che di conseguenza dovesse sicuramente essere avvenuto qualcosa e quando è tornato aggiunse Fenia agitata dopo avergli confessato tutto gli ho domandato Dmitri Fiodorovic caro perché avete quel sangue sulle mani e lui mi ha risposto se non ricordo male che quello era sangue umano e che aveva appena ammazzato un uomo ecco mi ha confessato ha messo tutto lì davanti a me poi all'improvviso è scappato via come un pazzo io mi sono seduta e ho cominciato a pensare dove sarà andato adesso correndo come un pazzo starà andando a Mokroe e lì ucciderà la padrona così sono corsa al suo appartamento per supplicarlo che non uccidesse la padrona ma passando dalla bottega dei Plotnikov non vuoi che vedo che stava già partendo e che non aveva più il sangue sulle mani Fenia aveva notato questo particolare e se l'era ricordato la vecchia la nonna di Fenia confermò la testimonianza della nipote per quanto le era possibile dopo aver fatto qualche altra domanda Piotr Illich uscì da quella casa ancora più agitato e inquieto di quando vi era entrato a quel punto la cosa più importante e opportuna da fare sarebbe stata quella di andare subito a casa di Fyodor Pavlovich per scoprire se fosse accaduto qualcosa e nel caso fosse accaduto qualcosa chiarire esattamente che cosa e poi una volta verificati i fatti con certezza soltanto allora recarsi dal capo della polizia come Piotr Illich era fermamente intenzionato a fare ma la notte era scura il portone della casa di Fyodor Pavlovich molto solido avrebbe dovuto mettersi a bussare un'altra volta e poi non conosceva bene Fyodor Pavlovich e se lo avessero sentito bussare se gli avessero aperto e non fosse accaduto nulla quel burlone di Fyodor Pavlovich l'indomani sarebbe andato in giro per tutta la città a raccontare l'aneddoto dello sconosciuto impiegato per Ciotin che si era precipitato a casa sua nel cuore della notte per informarsi se qualcuno lo avesse ucciso che scandalo Piotr Illich temeva gli scandali più di qualunque altra cosa al mondo eppure la sensazione che lo dominava era così potente che dopo aver pestato irosamente i piedi per terra in vendo contro se stesso si rimisa in cammino non per andare da Fyodor Pavlovich ma a casa della signora Cioclacova se quella alla domanda è vero o non è vero che avete dato 3000 rubli oggi alla talora a Dimitri Piotrovich avesse risposto negativamente egli sarebbe andato dritto dritto dal capo della polizia senza passare da Fyodor Pavlovich in caso contrario avrebbe rimandato il tutto al giorno dopo e sarebbe tornato a casa sua è lampante ne lo si potrebbe negare che con la decisione di recarsi di notte erano quasi le undici a casa di una signora dell'alta società una perfetta sconosciuta per lui e probabilmente farla alzare dal letto per porle una domanda così sballorditiva date le circostanze quel giovanotto aveva molte più probabilità di suscitare uno scandalo che andando direttamente da Fyodor Pavlovich ma a volte succede proprio così soprattutto in casi come questo nelle decisioni delle persone più scrupolose e flemmatiche Piotrovich però in quel momento era tutt'altro che flemmatico ricordò poi per tutta la vita come quell'insormontabile inquietudine che gradualmente lo aveva sopraffatto arrivasse fino al punto di farlo soffrire e lo spingesse ad agire persino contro la propria volontà si intende che continuò ad inveire contro se stesso lungo tutto il tragitto per il fatto che si stava recando da quella signora ma condurrò la faccenda a termine lo farò si ripeteva per la decima volta digrignando i denti e infatti esegui il suo proposito condusse la faccenda a termine erano le undici in punto quando entrò a casa della signora Cioclacova fu ammesso in cortile abbastanza in fretta ma quando domandò se la signora fosse sveglia o dormisse il portinaio non rispose nulla di preciso tranne che di solito a quell'ora era già a letto chiedete di sopra se vorranno ricevervi vi riceveranno se no non vi riceveranno Pietro Illich salì di sopra ma l'impresa si presentò tutt'altro che facile il servitore non voleva riferire della sua visita e alla fine chiamò la cameriera Pietro Illich le chiese gentilmente ma con insistenza di riferire alla padrona che era venuto per Ciotin un impiegato del luogo per una questione particolare e che se non fosse stata una questione importante non avrebbe mai osato venire ripetete esattamente queste mie parole chiese la ragazza quella andò a riferire e gli rimase ad aspettare in anticamera la signora Cioclacova non stava dormendo anche se si era già ritirata in camera sua era rimasta sconvolta dopo la recente visita di Mitia e aveva il presentimento che quella notte non avrebbe potuto evitare l'emicrania che di solito la colpiva in quelle occasioni sentendo il messaggio della ragazza ella ne fu molto sorpresa ma rifiutò irritata di ricevere l'ospite anche se la visita in attesa a quell'ora di notte di un impiegato del luogo a lei sconosciuto stuzzicava enormemente la sua curiosità femminile ma questa volta Pietro Illich era ostinato come un mulo udito il rifiuto a riceverlo gli chiese con estrema insistenza di riferire un altro messaggio esattamente con le stesse parole e cioè che egli era venuto per una faccenda di eccezionale importanza e che la signora avrebbe potuto rimpiangere in futuro di non averlo ricevuto in quel momento stavo rischiando proprio grosso raccontava egli stesso in seguito la cameriere lo guardò con tanto d'occhi poi andò a riferire il secondo messaggio la signora Cioclacova ne fu colpita ci pensò su chiese che aspetto avesse il visitatore e venne a sapere che era ben vestito giovane e molto gentile di modi noteremo fra parentesi e di sfuggita che Pietro Illich era un giovanotto piuttosto attraente e ne era consapevole la signora Cioclacova si decise ad uscire indossava già la vestaglia e le pantofole ma si gettò sulle spalle uno scialle nero l'impiegato fu invitato a passare in salotto dove poco prima era stato ricevuto mitia la padrona di casa si presentò a giovanotto con un'aria severa e interrogativa e senza invitarlo ad accomodarsi gli domandò direttamente che cosa volete? mi sono deciso a importunarvi signora per via del nostro comune conoscente Dmitri Fyodorovich Karamazov fece per esordire Perciotin ma appena pronunciato quel nome notò sul viso della padrona di casa una fortissima irritazione per poco ella non gettò uno strillo e lo interruppe con veemenza per quanto tempo ancora dovrò essere tormentata da questo orribile uomo gridava estericamente come avete osato egregio signora importunare una signora che non conoscete in casa sua a una tale ora per mettervi a parlare di un uomo che qui stesso in questo stesso salotto solo tre ore fa è venuto per uccidermi e se ne è andato sbattendo i piedi come nessuno esce da una casa per bene sappiate egregio signora che reclamerò contro di voi che non ve la lascerò passare e adesso favorite andarvene immediatamente sono una madre e ora io io uccidervi così volevo uccidere anche voi perché ha ucciso qualcun altro? domandò di slancio alla signora Cio Gracova se solo mi degnaste della vostra attenzione per mezzo minuto signora in due parole vi chiarirei ogni cosa rispose Perciotti in confermezza oggi alle cinque di pomeriggio il signor Karamazov ha preso in prestito da me in via del tutto amichevole la somma di dieci rubli e io so per certo che egli non aveva denaro eppure oggi stesso alle nove egli è entrato in casa mia tenendo in mano in bella vista un mucchietto di banconote da cento rubli per un ammontare di due forse tremila rubli aveva le mani e il viso imbrattati di sangue e lui stesso sembrava uscito di senno alla mia domanda su dove si fosse procurato quel denaro egli mi ha risposto che li aveva appena ricevuti da voi e che voi gli avevate prestato quella somma di tremila rubli per andare così ha detto alle miniere d'oro il viso della signora Cio Gracova assunse un'espressione di intensa e sofferente agitazione Dio mio ha ucciso suo padre esclamava battendo le mani non gli ho mai dato del denaro mai oh correte correte non dite una parola di più salvate il vecchio correte da suo padre correte scusate signora e così voi non gli avete dato denaro voi ricordate con sicurezza di non avergli dato alcuna somma di denaro non gli ho dato nulla non gli ho dato nulla mi sono rifiutata di darglielo perché non aveva saputo apprezzare il mio aiuto egli è corso via sbattendo i piedi come una furia si è scagliato contro di me e io ho fatto un balzo per scansarlo e vi dirò ancora come a persona alla quale non ho intenzione di nascondere nulla che mi ha persino sputato addosso ve lo immaginate? ma che stiamo a fare qui impalati? eh sedetevi scusate io anzi è meglio che corriate correte dovete correre a salvare quel disgraziato vecchio da una morte orribile e se l'avesse già ammazzato? addio mio è vero e allora che cosa possiamo fare? che cosa possiamo fare secondo voi? nel frattempo aveva fatto accomodare Pieter Illich e si era seduta lei stessa di fronte a lui Pieter Illich le espose brevemente ma con sufficiente chiarezza tutta la storia o meglio quella parte della storia della quale era stato testimone le raccontò dell'incontro di poco prima con Fenia e le riferì il particolare del pestello tutti quei dettagli produssero un effetto sconvolgente sulla signora già esagitata che continuava ad emettere gridolini e a coprirsi il volto con le mani immaginate un po' che io prevedevo tutto questo io sono dotata di questa capacità qualsiasi cosa io immagini prima o poi si avvera quante quante volte ho guardato quell'uomo tremendo e ho pensato ecco un uomo che finirà per uccidermi ed è andata a finire proprio così cioè anche se non ha ucciso me ma soltanto suo padre è stato sicuramente perché la mano divina della provvidenza mi ha protetto e soprattutto perché egli si è vergognato di ammazzarmi dal momento che io stessa in questo stesso luogo gli ho messo al collo l'immaginetta con le reliquie della protomartire Barbara e pensare quanto sono stata vicino alla morte in quel momento mi sono avvicinata moltissimo a lui e lui ha allungato il collo verso di me sapete Piotr Illich scusate avete detto che vi chiamate Piotr Illich io non credo ai miracoli ma quell'immaginetta e quell'evidente miracolo che mi è accaduto adesso mi hanno sconvolta e sono di nuovo disposta ad avere fede in qualunque cosa avete sentito dallo stare Zosima ma poi non so quel che dico figuratevi anche con l'immaginetta al collo ha avuto il coraggio di sputarmi addosso certo si è limitato a sputare e non mi ha uccisa e poi è corso via come una saetta e noi che cosa facciamo adesso dove andiamo voi che dite Piotr Illich si alzò e annunciò che sarebbe andato direttamente dal capo della polizia per raccontargli ogni cosa e poi questi avrebbe fatto quello che riteneva giusto ah è una persona magnifica magnifica io conosco mica il Macarovie senza dubbio è la persona che fa il caso nostro come siete pratico Piotr Illich come avete pensato bene a ogni cosa sapete al vostro posto a me non sarebbe mai venuto in mente tanto più che anche io conosco bene il capo della polizia osservò Piotr Illich che si tratteneva lì in piedi ma era evidentemente ansioso di scappar via al più presto da quell'impulsiva signora che non gli dava modo di congedarsi e di andare dove doveva e sapete sapete continuava a cicalare tornate a riferirmi che cosa avete visto e sentito che cosa scopriranno come lo giudicheranno e in che modo lo condanneranno ditemi da noi non c'è la pena di morte vero? ma venite assolutamente anche alle tre di notte anche alle quattro persino alle quattro e mezzo ordinate che mi sveglino che mi scuotano se non mi dovessi svegliare oddio non credo nemmeno che mi addormenterò ma un momento non farai meglio a venire con voi? no signora se solo mi scriveste di vostro pugno un paio di righe per ogni evenienza sul fatto che non avete mai dato denaro a Dmitri Fiodorovic forse potrebbe essere utile per ogni evenienza certamente esclamò la signora Cioclacova saltellando eccitata sul suo bureau sapete voi mi sballordite semplicemente mi sconvolgete con il vostro spirito pratico e la vostra capacità di districarvi in queste faccende lavorate qui in città che piacere sentire che lavorate qui e mentre finiva di dire questo buttò giù velocemente su un mezzo foglio di carta da lettera le seguenti righe a grandi caratteri non ho mai prestato in vita mia a quell'infelice di Dmitri Fiodorovic Karamazov già che nonostante tutto egli è un'infelice la somma di 3000 rubli e non gli ho mai prestato denaro mai mai lo giuro su tutto ciò che c'è di sacro a questo mondo Cioclacova ecco qui il bigliettino e si voltò rapidamente a Piotr Ilic andate salvatelo è un nobile gesto da parte vostra e fece tre volte il segno della croce su di lui poi corse fuori dalla stanza per accompagnarlo sino in anticamera come vi sono grata voi non immaginate quanto vi sia grata per essere passato prima da me com'è che non ci siamo incontrati prima sarei molto lusingata di ricevervi da ora in poi in casa mia e che piacere mi fa sentire che lavorate qui e con una tale precisione con una tale abilità pratica devono assolutamente apprezzare le vostre doti devono infine comprendervi e se ci dovesse essere qualcosa che posso fare per voi credetemi amo tanto la gioventù sono innamorata della gioventù i giovani sono il sostegno della nostra russia che tanto soffre al momento sono tutta la sua speranza andate andate ma Piotr Ilic era già corso via altrimenti lei non l'avrebbe fatto andare tanto facilmente comunque la signora Cioclacova gli aveva fatto un'impressione piuttosto buona aveva persino attenuato la sua ansia per essere stato coinvolto in un affare così spiacevole i gusti sono straordinariamente disparati si sa e non è affatto così anziana pensò compiaciuto al contrario l'avrei presa per sua figlia per quanto riguarda poi la signora Cioclacova lei era stata semplicemente incantata dal giovanotto un tale buon senso una tale accuratezza in un uomo così giovane con i tempi che corrono e poi quelle maniere quel portamento e poi dicono dai giovani moderni che non sono capaci di fare nulla invece eccovi un esempio e così via e così via e così si dimenticò completamente del terribile incidente solo mentre si coricava le sovvenne di nuovo di essere stata così vicina alla morte e disse ma è orribile è orribile ma poi si addormentò di colpo di un sonno profondo e dolce del resto non mi sarei soffermato su questi particolari così banali e irrilevanti se questo eccentrico incontro che ho appena descritto del giovane impiegato con quella vedova tutt'altro che attempata non avesse segnato l'inizio dell'intera carriera di quel giovanotto così scrupoloso e accurato la sua storia ancora oggi si ricorda con grande stupore qui in città e forse anche noi avremo da dire ancora qualche parolina a questo proposito quando concluderemo il lungo racconto sui fratelli Karamazov allarme il nostro capo della polizia Mikhail Makarovic Makarov tenente colonnello a riposo ora nominato consigliere di tribunale era un brav'uomo vedovo era venuto dalle nostre parti solo tre anni prima ma si era già conquistato la stima generale soprattutto per il fatto che sapeva tenere unita la società mondana riceveva ospiti in continuazione anzi sembrava che senza di essi non sarebbe riuscito a vivere immancabilmente aveva qualcuno a pranzo anche se solo un paio di ospiti anche solo uno ma senza ospiti non si sedeva neanche a tavola dava anche pranzi di gala con pretesti di ogni genere a volte anche inattesi le pietanze non erano ricercate ma abbondanti si servivano eccellenti pasticci di pesce mentre i vini compensavano con la quantità la qualità non delle migliori nella camera d'ingresso aveva il biliardo inserito in un arredamento molto decoroso cioè addirittura con stampe di cavalli da corsa inglesi in cornici nere lungo le pareti il che come è noto costituisce un ornamento indispensabile nelle sale da biliardo di ogni scapolo ogni sera si giocava a carte fosse anche ad un tavolo solo ma molto spesso si riuniva con lui la crema della nostra società con tanto di mamma e figliuole per fare quattro salti nonostante fosse vedovo Mikhail Makarovic conduceva vita di famiglia dal momento che in casa con lui abitava la figlia anche lei vedova da molto tempo a sua volta madre di due ragazze le nipoti di Mikhail Makarovic le ragazze erano già adulte e avevano terminato i loro studi erano di aspetto gradevole di carattere allegro e sebbene fosse noto a tutti che non avevano dote tuttavia attiravano a casa del nonno uno stuolo di giovanotti di bel mondo nel lavoro Mikhail Makarovic non era proprio una cima però adempiva i suoi doveri non peggio di tanti altri a dirla tutta era un uomo di cultura abbastanza limitata e persino indolente nel comprendere i limiti del suo potere amministrativo non si poteva dire che non cogliesse il senso di alcune riforme adottate durante il regime vigente però commetteva errori a volte anche molto grossolani nella loro interpretazione e questo non già a causa di qualche particolare incapacità da parte sua ma semplicemente per via della sua negligenza perché aveva sempre troppa fretta per approfondire qualcosa ho un'anima più da soldato che da civile io soleva dire di sé non si era nemmeno formato un'idea precisa e definitiva dei principi fondamentali delle riforme connesse con l'emalcipazione dei servi ma ne apprendeva qualcosa diciamo così di anno in anno moltiplicando le proprie conoscenze senza volerlo con la pratica e dire che anche lui era un proprietario terriero Peter Illich aveva la certezza che quella sera avrebbe incontrato qualche ospite a casa di Mikhail Makarovie solo che non sapeva chi di preciso infatti in quel momento si trovavano a casa sua a giocare a Eralas il procuratore il medico del nostro distretto Wervinski un giovanotto appena arrivato dalla facoltà di medicina di Pietroburgo dove si era laureato a piani voti il procuratore invece che in realtà era il sostituto procuratore ma tutti da noi lo chiamavano procuratore Hippolyte Kirillovie era un uomo piuttosto singolare era giovane aveva solo 35 anni ma molto predisposto alla tisi era sposato con una donna molto grassa e non aveva figli era ambizioso e suscettibile eppure dotato di solida intelligenza e anche di buon cuore si sarebbe detto che il suo problema fosse quello di avere un concetto di sé molto più alto di quanto gli consentissero le sue vere qualità ecco perché aveva sempre un aspetto inquieto per di più aveva anche delle velleità di ordine superiore addirittura di natura artistica per esempio tendeva a fare della psicologia si atteggiava a profondo conoscitore dell'animo umano credeva di essere particolarmente dotato nella comprensione del criminale e del suo crimine a questo riguardo egli si considerava piuttosto danneggiato e maltrattato nel lavoro ed era sempre stato convinto che là nelle alte sfere non sapessero apprezzarlo e che molti gli fossero nemici nei momenti neri minacciava persino di lasciare il suo posto per darsi alla professione di penalista l'imprevedibile caso del parricidio dei Karamazov lo scosse profondamente un caso del quale si sarebbe molto parlato nella Russia intera ma sto correndo troppo Nicolai Parfenovic Neliudov il nostro giovane giudice istruttore arrivato da Pietroburgo soltanto due mesi prima si trovava nella camera attigua in compagnia delle signorine in seguito la gente commentò molto e si stupì del fatto che tutti quei gentiluomini si trovassero come a farlo apposta riuniti tutti insieme a casa della massima autorità esecutiva proprio la sera del delitto e invece la cosa era andata molto semplicemente e nel più naturale dei modi la moglie di Politi Kirilovie aveva mal di denti da due giorni ed egli aveva bisogno di un posto dove sottrarsi ai suoi lamenti il dottore per la sua stessa natura non era capace di trascorrere le sue serate altrimenti che al tavolo da gioco quanto a Nicolai Parfenovie Neliudov erano tre giorni che intendeva capitare casualmente diciamo così a casa di Mikhail Makarovie per tirare un colpo mancino alla nipote maggiore Olga Mikhailovna dicendo che conosceva il suo segreto cioè che quel giorno era il suo compleanno e che lei intendeva tenerlo nascosto di proposito in società per non essere costretta a dare un ballo prevedeva un sacco di risate e di allusioni alla sua età che ella aveva sempre temuto che scoprissero ma ora che lui era a conoscenza del suo segreto l'avrebbe riferito a tutti l'indomani stesso e così via il caro giovanotto era un gran birichino in queste cose e le nostre signore lo soprannominavano proprio così birichino e questo sembrava piacergli molto egli apparteneva alla crema della società proveniva da una buona famiglia aveva ricevuto una buona educazione era di buoni sentimenti e sebbene fosse un buon tempone rimaneva sempre un giovanotto bravo e a modo era bassissimo di costituzione debole e delicata alle ditine bianche e sottili gli brillavano sempre alcuni anelli eccezionalmente massicci nell'adempimento del proprio dovere si faceva eccezionalmente grave come se considerasse addirittura sacre la posizione e le proprie funzioni aveva la particolare capacità di sconcertare gli assassini e i malfattori in genere quelli di umili origini durante gli interrogatori e riusciva a suscitare in loro se non rispetto almeno stupore Piotr Illich rimase semplicemente attonito quando entrò in casa del capo della polizia si accorse subito che là sapevano già tutto infatti avevano abbandonato le carte e stavano tutti in piedi a commentare l'accaduto persino Nikolai Parfenovic si era allontanato di corsa dalle signorine e aveva assunto un'aria combattiva e pronta all'azione Piotr Illich fu accolto dalla notizia sbalorditiva che il vecchio Fyodor Paulovic era davvero stato ucciso quella sera in casa propria ucciso e derubato lo avevano appena saputo in un seguente modo Marfa Ignatevna la moglie di Grigori il servo atterrato presso lo steccato che stava dormendo sodo nel proprio letto e avrebbe potuto andare avanti così sino a mattina si era svegliata all'improvviso senz'altro il suo risveglio era stato causato dall'agghiacciante urlo epilettico di Smerdiakov che giaceva nella cameretta accanto privo di conoscenza quel grido che sempre segnalava l'inizio dei suoi attacchi di mal caduco e che sempre in tutta la sua vita aveva spaventato a morte Marfa Ignatevna aveva un effetto sconvolgente su di lei non era mai riuscita ad abituarsi ad esso balzò in piedi mezza addormentata e quasi nel dormifeglio accorse nello scabuzzino da Smerdiakov ma lì era buio si sentiva soltanto che il malato cominciava a rantolare e a dibattersi a quel punto si mise a gridare anche lei e a chiamare il marito ma ad un tratto le venne in mente l'idea che Grigori non fosse a letto quando lei si era alzata corse a letto e lo tastò di nuovo era davvero vuoto dunque era andato da qualche parte ma dove? corse fuori sul terrazzino d'ingresso e lo chiamò timidamente da lì ovviamente non ricevette risposta però udì nel silenzio della notte dei gemiti che provenivano da lontano come da un punto nel giardino tese l'orecchio i gemiti si ripeterono ed ebbe la certezza che provenissero dal giardino Dio mio proprio come quella volta di Elisaveta Smestiascaia vale non la sua mente sconvolta e la scese timidamente gli scalini e intravide che il cancelletto che conduceva nel giardino era aperto deve essere lì il povero caro pensò si avvicinò al cancelletto e all'improvviso dì chiaramente che Grigori la stava chiamando gridava Marfa Marfa con una voce flebile lamentosa terribile Dio mio salvaci da ogni male sussurro Marfa Agnatevna e si affrettò in direzione della voce e fu così che trovò Grigori ma lo trovò non presso il recinto non nello stesso posto in cui era stato abbattuto ma a una ventina di passi dallo steccato risultò in seguito che ripresi i sensi e gli si era allontanato strisciando dal posto in cui era caduto e probabilmente ci aveva messo molto tempo per arrivare sino a lì perdendo conoscenza di tanto in tanto e là si accorse immediatamente che era tutto insanguinato e si mise a urlare a squarciagola Grigori invece balbettava a voce bassa frasi incoerenti ha ammazzato ha ammazzato il padre che gridi sciocca corri chiama ma Marfa Agnatevna non si calmava continuava a urlare quando all'improvviso vedendo la finestra nella camera del padrone aperta e illuminata si mise a correre verso di essa e cominciò a chiamare Fiodor Paolovic ma sbirciando dalla finestra all'interno della camera vide uno spettacolo terribile il padrone giaceva diverso sul pavimento immobile la vestaglia chiara e la camicia bianca erano intrise di sangue sul petto la candela sul tavolo illuminava chiaramente il sangue e il viso immobile privo di vita di Fiodor Paolovic terrorizzata Marfa Agnatevna scappò via dalla finestra corse fuori dal giardino aprì il catenaccio del portone e si diresse a rotta di collo sul retro dalla vicina Maria Contratevna tutte e due le vicine madre e figlia a quell'ora si erano già coricate ma si svegliarono e si affrettarono alla finestra sentendo le grida insistenti e i colpi alle imposte Marfa Agnatevna fra urla e strepiti incoerenti riuscì a comunicare l'essenziale e a chiamare soccorso neanche a farlo apposta quella notte dormiva da loro Foma tornato dai suoi giri lo svegliarono subito e tutti e tre corsero sul luogo del delitto lungo la strada Maria Contratevna riuscì a ricordarsi che poco prima verso le nove aveva sentito un urlo terribile e penetrante provenire dal giardino si era trattato senz'altro del grido che aveva cacciato Grigori quando aggrappatosi alla gamba di Dimitri Fiodorovic che si trovava già a cavalcioni dello steccato gli aveva gridato parricida qualcuno ha gridato qualcosa e poi ha smesso testimoniava correndo Maria Contratevna giunte al punto in cui giaceva Grigori le due donne con l'aiuto di Foma lo trasportarono nella dipendenza accesero il fuoco e videro che Smerdiakov non si era calmato si dibatteva nel suo stanzino rovesciava gli occhi e sbavava bagnarono il capo di Grigori con acqua e aceto e questi si riprese immediatamente e domandò subito ha ucciso il padrone le due donne e Foma allora andarono dal padrone ed entrando nel giardino si accorsero questa volta che non solo la finestra ma anche la porta della casa che dava sul giardino era spalancata eppure il padrone stesso da più di una settimana ogni sera si chiudeva a chiave dall'interno e non permetteva neanche a Grigori di andare da lui per nessuna ragione vedendo quella porta aperta tutti quanti le due donne e Foma furono invasi dalla paura di andare dal padrone per timore che poi avvenisse qualcosa ma Grigori quando quelli tornarono da lui ordinò di correre immediatamente dal capo della polizia quindi Maria Contratevna era corsa là e aveva dato l'allarme alla compagnia riunita dal capo della polizia aveva anticipato di soli 5 minuti l'arrivo di Piotr Ilic cosicché il racconto di questi non risultò frutto di personali congetture e deduzioni ma una testimonianza diretta e una conferma della teoria da tutti sostenuta riguardo all'identità del colpevole una teoria nella quale fin all'ultimo minuto egli in cuor suo si era rifiutato di credere decisero di agire con energia il vice commissario fu incaricato di raccogliere quattro testimoni e così si entra in casa di Fiodor Paulovic per effettuare un sopralluogo secondo la prassi che non starà qui ad escrivere il medico del distretto un uomo impetuoso e inesperto insistè personalmente per accompagnare il capo della polizia il procuratore e il giudice istruttore noterò brevemente che Fiodor Paulovic fu trovato morto stecchito con il cranio fracassato ma da quale arma? probabilmente dalla stessa arma con la quale avevano colpito anche Grigori allora si misero immediatamente a cercare quell'arma ascoltate la testimonianza di Grigori il quale ricevute tutte le cure mediche possibili descrisse con sufficiente coerenza anche se con luce fiocca e rotta il modo con cui era stato atterrato cominciarono le ricerche alla luce di una lanterna nei pressi dello steccato e così ritrovarono il pestello di ottone gettato via sul viottolo del giardino in bella vista nella stanza in cui giaceva Fiodor Paulovic non riscontrarono particolare disordine ma dietro il paravento presso il suo letto raccolsero da terra una grossa busta del formato che si usa negli uffici di carta spessa con la scritta un regalino di 3000 rubli per il mio angelo gruschenca se vorrà venire da me e più in basso era stato aggiunto in seguito probabilmente da Fiodor Paulovic stesso per la mia gallinella sulla busta c'erano tre grossi sigilli di ceralacca rossa ma la busta era stata lacerata ed era vuota i soldi erano stati sottratti sempre sul pavimento ritrovarono un nastrino sottile di color rosa che legava la busta un dettaglio della testimonianza di Peter Illich fece fra l'altro una particolare impressione sul procuratore e sul giudice istruttore la sua teoria che Dimitri Fiodorovic si sarebbe sicuramente sparato all'alba che l'aveva deciso lui stesso e ne aveva parlato aveva caricato la pistola davanti a lui aveva scritto quel bigliettino se lo era messo in tasca e così via quando poi Peter Illich che non voleva ancora credergli lo aveva minacciato di recarsi da qualcuno per impedirgli di commettere un suicidio Mitia sorridendo gli aveva risposto non faresti in tempo dunque occorreva affrettarsi sul posto a Macroe per trovare il criminale prima che veramente gli saltasse in mente di spararsi è chiaro è chiaro ripeteva il procuratore sollecitato è il tipico comportamento dei furfanti di quella razza domani mi ammazzo ma nel frattempo mi do ai bagordi il racconto dell'acquisto dei vini e delle provviste alla drogheria non fece che accrescere l'eccitazione del procuratore vi ricordate signori di quel giovanotto che uscise il mercante Olsufiev lo derubò di 1500 rubli e andò subito a farsi arricciare i capelli poi senza nascondersi per benino i soldi anzi portandoli quasi in mano se ne andò a donne comunque erano tutti trattenuti dall'indagine e dalla perquisizione in casa di Fiodor Paulovic dalle formalità e via dicendo tutte queste cose richiedevano tempo e così mandarono a Macroe con un paio di ore di anticipo il capo distretto di polizia Mavriky Mavrikevich Smerkov arrivato in città proprio quella mattina per rispotere lo stipendio a Mavriky Mavrikevich dettero le seguenti istruzioni arrivato a Macroe non suscitare allarme di alcun genere seguire il criminale passo passo sino all'arrivo delle autorità competenti e nel frattempo procurare testimoni per l'arresto agenti e così via e così fece Mavriky Mavrikevich il quale mantenne l'incognito e confidò in parte il suo segreto solo al suo vecchio conoscente Trifon Borisyevich i due si erano parlati proprio poco prima che Mitia incontrasse al buio sulla balconata il locandiere che lo stava cercando e in quella occasione egli aveva per l'appunto notato un repentino cambiamento nel viso e nella voce di Trifon Borisyevich in questo modo né Mitia né nessun altro era al corrente che gli stessero sorvegliando Trifon Borisyevich aveva già requisito da un pezzo l'astuccio con le pistole e lo aveva nascosto in un posto sicuro e non prima delle 5 di mattina praticamente all'alba arrivarono tutte le autorità il capo della polizia il procuratore il giudice istruttore in due carrozze ciascuna tirata da tre cavalli il dottore invece era rimasto a casa di Fyodor Pavlovich per eseguire l'indomani l'autopsia sul cadavere della vittima ma era anche particolarmente interessato alle condizioni di salute del servo Smerdiakov attacchi così violenti e prolungati di mal caduco che si ripetono di continuo nel giro di 48 ore si incontrano raramente e sono di grande interesse per la scienza dichiarò entusiasta i suoi compagni e quelli si congratularono ridendo della scoperta il procuratore e il giudice istruttore si impressero bene in mente che il dottore aveva aggiunto con tono più che deciso che Smerdiakov non avrebbe superato la notte adesso dopo queste lunghe ma a parer mio necessarie spiegazioni torneremo proprio a quel punto del nostro racconto in cui ci eravamo fermati nel libro precedente pellegrinaggio di un'anima attraverso le tribolazioni tribolazione prima e così Mitia se ne stava seduto ad osservare con occhi ispiritati la gente intorno a lui senza capire che cose gli dicessero ad un tratto si alzò si lanciò in alto le braccia e gridò a voce alta sono innocente di quel sangue sono innocente del sangue di mio padre sono innocente volevo ucciderlo ma sono innocente non sono stato io aveva appena urlato queste parole quando da dietro la tenda balzò fuori Grushenka che si gettò ai piedi del capo della polizia è colpa mia mia sono io la maledetta gridò ella in lacrime con un urlo che lacerava il cuore protendendo le mani verso i presenti è stato per colpa mia che l'ha ammazzato sono stata io a tormentarlo e a condurlo a questo e ho tormentato pure quel pover vecchio defunto a causa del rancore che covavo e l'ho condotto a questo la colpa è mia sono io la prima la principale responsabile sì è colpa tua sei tu la principale delinquente tu la colpevole furiosa perversa tu la principale responsabile si mise a strillare il capo della polizia minacciandola con la mano ma lo fecero calmare subito con fermezza il procuratore lo bloccò persino con tutte e due le braccia questo è assolutamente irregolare Mikhail Makarovic grida lui state decisamente ostacolando le indagini state rovinando tutto gli disse quasi senza fiato occorre prendere provvedimenti prendere provvedimenti prendere provvedimenti si mise a urlare anche Nikolai Parfenovic accalorandosi oltre ogni dire altrimenti è davvero impossibile giudicateci insieme continuò a urlare freneticamente Grushenka restando in ginocchio condannateci insieme adesso insieme a lui affronterei anche la pena capitale Grusha vita mia sangue mio mia santa disse Mitia gettandosi accanto a lei in ginocchio e stringendo la forte fra le sue braccia non credetele gridava lei non è colpevole di nulla del sangue di nessuno di niente di niente in seguito ricordò che alcuni uomini lo avevano trascinato via da lei con la forza e che avevano condotto Grushenka da un'altra parte ma quando tornò in sé si trovava seduto ad un tavolo accanto e dietro di lui c'erano gli uomini con le placche di fronte a lui dalla parte opposta del tavolo sedeva Nicolai Parfenovic il giudice istruttore del tribunale che cercava di convincerlo a bere un po' d'acqua dal bicchiere che stava sul tavolo vedrà rifrigerio vi calmerà non abbiate paura non vi preoccupate gli diceva con estrema gentilezza Mitia fu improvvisamente incuriosito così ricordava in seguito dagli enormi anelli di quello uno con un ametista e l'altro con una pietra giallo chiaro trasparente e di stupenda lucentezza e per molto tempo in seguito egli ricordò con stupore come quegli anelli lo avessero attirato irresistibilmente nel corso di tutte quelle terribili ore di interrogatorio tanto che per qualche ragione non riusciva a distogliere lo sguardo da essi e a ignorarli sebbene essi non avessero assolutamente niente a che fare con la sua situazione a sinistra di fianco a Mitia nel posto in cui all'inizio della serata era seduto Maximov adesso era seduto il procuratore mentre a destra dove prima stava Grushenka aveva trovato posto un giovanotto rubicondo che indossava una specie di giacca da caccia molto logora davanti a lui c'erano carta e caramaio questi risultò essere il segretario che si era portato appresso il giudice istruttore il capo della polizia invece in quel momento si trovava presso la finestra nell'altro angolo della stanza accanto a Kalganov che pure stava seduto su una sedia presso quella stessa finestra bevete l'acqua gli ripeteva dolcemente per la decima volta il giudice istruttore ho bevuto signori ho bevuto ma su signori schiacciatemi punitemi decidete il mio destino esclamò Mitia fissando il giudice istruttore con gli occhi sbarrati e con uno sguardo terribilmente immobile e così voi dichiarate con fermezza di non essere colpevole della morte di vostro padre Fiodor Paolovic domandò il giudice istruttore con dolcezza ma con insistenza sono innocente sono colpevole di un altro sangue del sangue di un altro vecchio ma non di quello di mio padre e piangerò per quello ho ucciso ho ucciso un vecchio l'ho ucciso e l'ho atterrato ma è penoso rispondere per quell'omicidio con un altro omicidio un omicidio terribile del quale sono innocente è un'accusa terribile signori un colpo tra capo e collo ma chi ha ucciso mio padre chi chi mai può averlo ucciso se non io è inaudito assurdo impossibile sì chi può averlo ucciso fece per ripetere il giudice istruttore ma il procuratore Ippolit Kirillovic il sostituto procuratore ma per brevità noi lo chiameremo procuratore scambiato un'occhiata con il giudice istruttore disse rivolgendosi a Mitia vi preoccupate inutilmente per il vecchio servo Grigori Vasilievic sappiate che egli è vivo si è ripreso e malgrado le pesanti percosse che voi gli avete inflitto secondo la sua e adesso anche vostra testimonianza sembra che non ci sia dubbio che egli sopravviva almeno secondo il parere del medico vivo allora è vivo gridò a bruciapelo Mitia battendo le mani un'espressione arraggiante gli era comparsa sul volto signore ti ringrazio per il sublime miracolo che hai compiuto per me peccatore e malfattore in risposta alla mia preghiera sì sì è in risposta alla mia preghiera ho pregato tutta la notte e si fece il segno della croce per tre volte era quasi senza fiato così da questo Grigori in persona abbiamo ricevuto l'importantissima testimonianza sul vostro conto secondo la quale cercò di proseguire il procuratore ma Mitia balzò in piedi un minuto signori per l'amor del cielo solo un minutino faccio un salto da lei scusate in questo momento è proprio impossibile Nicolai Perfenovic a momento urlava balzando in piedi anche lui gli uomini con le placche sul petto afferrarono Mitia ma egli si rimise a sedere di sua spontanea volontà signori che peccato volevo andare da lei soltanto per un attimo volevo darle la notizia che quel sangue è stato lavato è scomparso quel sangue che mi dilaneava il cuore e che non sono più un assassino signori lei è la mia fidanzata disse ad un tratto con aria triunfante e deferente tirando lo sguardo su ognuno di loro vi ringrazio signori mi avete restituito la vita mi avete fatto risorgere in un attimo quel vecchio mi ha portato in braccio signori mi lavava nel mastello quando tutti mi avevano abbandonato all'età di tre anni è stato come un padre per me e così voi fece per dire il giudice istruttore scusate signori permettete un minutino lo interruppe Mitia appoggiando entrambi i gomiti sul tavolo e coprendosi il volto con le mani concedetemi un attimo per pensare per riprendere fiato signori tutto questo mi sconvolge terribilmente terribilmente l'uomo non ha mica la pelle di tamburo signori vi farebbe bene bere un po' d'acqua mormorò Nikolai Parfenovic Mitia allontanò le mani dal viso e rise il suo sguardo era sicuro di sé adesso si era trasformato in un baleno era cambiato anche il suo comportamento era tornato a sentirsi uguale a tutti quegli uomini che conosceva personalmente proprio come se si fossero incontrati il giorno prima quando non era ancora accaduto nulla in occasione di qualche riunione mondana a questo proposito noteremo comunque che appena arrivato in città Mitia era stato accolto molto cordialmente a casa del capo della polizia ma in seguito soprattutto nell'ultimo mese Mitia non lo aveva frequentato quasi per nulla e il capo della polizia quando lo incontrava per strada per esempio assumeva un'espressione visibilmente acciliata e rispondeva al suo saluto solo per cortesia come Mitia aveva notato molto bene la sua amicizia con il procuratore era ancora meno intima sebbene Mitia alle volte si recasse in visita di cortesia a sua moglie una signora nervosa e piena di strane idee senza sapere gli stesso perché ci andasse ella dal canto suo lo accoglieva con gentilezza e si era interessata a lui per qualche ragione fino agli ultimi giorni non aveva fatto in tempo a fare conoscenza con il giudice istruttore tuttavia lo aveva incontrato e aveva persino scambiato due parole con lui un paio di volte e tutte e due le volte l'argomento di conversazione era stato gentil sesso voi Nicolai Perfenovic siete un giudice abilissimo a quanto pare disse Mitia a bruciapelo ridendo allegramente ma adesso vi darò una mano io stesso signori miei mi sento come risorto non ve la prenderete con me se mi rivolgo a voi in maniera così semplice e schietta per di più sono alticcio ve lo dico apertamente mi sembra di avere avuto l'onore l'onore e il piacere di incontrarvi Nicolai Perfenovic dal mio parente Yusof signori signori non pretendo di essere considerato un vostro pari infatti mi rendo conto della mia attuale posizione nei vostri confronti su di me grava se Grigori ha testimoniato contro di me allora grava oh certo che grava un terribile sospetto un orrore un orrore questo lo capisco bene ma sono disposto a collaborare signori e risolveremo l'intera faccenda in un attimo perché ascoltatemi ascoltatemi signori dal momento che so di essere innocente allora certamente possiamo porre fine alla faccenda in un attimo non è vero non è vero Mitia parlava molto e rapidamente in maniera nervosa e cordiale come se davvero vedesse nei suoi ascoltatori i suoi migliori amici e così per il momento metteremo a verbale che voi respingete nella maniera più recisa l'accusa che è stata mossa contro di voi preferì Nicolai Perfenovic con aria grave e giratosi verso lo scrivano gli dettò a mezza voce quello che doveva scrivere mettete a verbale voi volete mettere questo a verbale allora verbalizzate pure sono d'accordo vi do il mio pieno consenso signori solo vedete aspettate aspettate scrivete così di violenza egli è colpevole delle pesanti percosse inflitte al povero vecchio colpevole e c'è ancora qualche cosa nel profondo del mio cuore di cui sono colpevole ma questo non c'è bisogno di scriverlo e si rivolge di scatto allo scrivano si tratta della mia vita privata in questo caso signori e questo cioè il profondo del mio cuore a voi non interessa ma dell'assassinio del vecchio mio padre sono innocente è un'idea folle un'idea completamente folle ve lo proverò e vi convincerete da soli immediatamente voi riderete signori vi sbellicherete dalle risa per aver sospettato di me calmatevi Dmitri Piotrovic lo ammonì il giudice istruttore come desideroso di conquistare quello esagitato con la propria calma prima di continuare questo interrogatorio io vorrei se solo vi degnaste di rispondermi la vostra conferma del fatto che a quanto pare voi non amavate il defunto Fiodor Piotrovic eravate in eterno conflitto con lui qui non meno di un quarto d'ora fa voi avete affermato che avreste perfino voluto ammazzarlo non l'ho ucciso avete esclamato ma volevo ucciderlo ho esclamato questo può benissimo essere signori sì purtroppo volevo ucciderlo tante volte avrei voluto farlo purtroppo purtroppo volevate non vorreste spiegare quali motivi esattamente vi spingevano a un tale odio verso la persona del vostro genitore che c'è da spiegare signori rispose Miti a cupo stringendo le spalle e abbassando il capo io non facevo mistero dei miei sentimenti lo sa tutta la città lo sanno tutti in trattoria solo qualche giorno fa nella cella dello star Zosima ho parlato chiaro quel giorno stesso di sera ho picchiato mio padre per poco non l'ammazzavo e ho giurato che sarei tornato ad ammazzarlo in presenza di testimoni oh miriadi di testimoni per un mese non ho fatto che strepitare tutti ne sono stati testimoni i fatti ce li abbiamo di fronte i fatti parlano chiaro gridano ma i sentimenti signori sono un altro paio di maniche vedete signori e mi ti aggrottò le sopracciglia credo che riguardo ai sentimenti voi non abbiate il diritto di interrogarmi so che è il vostro mestiere a imporverlo lo capisco ma questo è un fatto mio un fatto interiore intimo ma dal momento che non ho fatto mistero dei miei sentimenti in passato per esempio in trattoria li ho sbandierati a destra e a manca allora allora non ne farò mistero neanche adesso vedete signori io mi rendo conto che in questo caso gli indizi a mio carico sono terribili ho detto a tutti che l'avrei ammazzato e ora di punto in bianco lo hanno ucciso come non pensare che il colpevole sia stato io io vi scuso signori vi scuso in tutto e per tutto sono scosso anch'io in tutte le mie fibre perché chi potrebbe averlo ucciso in fin dei conti se non io non è vero se non sono stato io chi è stato chi è stato signori alzò la voce all'improvviso io voglio sapere lo esigo perfino da voi signori dove è stato ammazzato come è stato ammazzato con quale arma e in che modo ditemelo domandò in fretta guardando il procuratore e il giudice istruttore lo abbiamo trovato che giaceva sul pavimento supino nel suo studio con il cranio fracassato disse il procuratore ma è terribile signori trassalì ad un tratto mitia e puntando i gomiti sul tavolo si coprì il volto con la mano destra andiamo avanti l'interruppe Nicolai Perfenovic e allora che cosa vi ha indotto a tali sentimenti di odio voi pare avete dichiarato pubblicamente che si trattava di un sentimento di gelosia non è vero beh sì la gelosia ma non soltanto la gelosia contrasti di natura finanziaria beh sì anche di natura finanziaria c'è stata una questione riguardo a 3.000 rubli che voi reclamevate come parte della vostra eredità che 3.000 e 3.000 di più di più scattò mitia più di 6.000 più di 10.000 forse e lo dicevo a tutti lo sbandieravo ai 4.20 ma poi decisi di accontentarmi di 3.000 rubli avevo disperatamente bisogno di quei 3.000 rubli tanto che quel mucchietto di 3.000 rubli che io sapevo che lui teneva sotto il cuscino pronto per Grushenka lo consideravo come sottratto a me lo consideravo mio signori come una mia proprietà personale il procuratore scambiò un'occhiata significativa con il giudice istruttore e fece anche in tempo ad ammiccare verso di lui senza che gli altri se ne accorgessero torneremo su questo punto disse subito il giudice istruttore adesso permetteteci di prendere nota di questo piccolo punto e di metterlo a verbale così voi consideravate i soldi che si trovavano in quella busta come una vostra proprietà personale scrivete signori mi rendo conto che si tratta dell'ennesimo indizio contro di me ma non temo gli indizi e li riferirò anche se possono nuocermi mi sentite? vedete signori voi mi prendete per un uomo completamente diverso da quello che sono soggiunse cupo e rattristato è un uomo nobile una persona nobilissima che vi sta parlando e soprattutto questo non perdetelo di vista un uomo che ha commesso un mare di malefatte ma che nonostante tutto è sempre stato ed è ancora un essere nobilissimo nella sua essenza nel suo intimo nel profondo del suo cuore insomma in una parola non riesco ad esprimermi proprio questo mi ha tormentato per tutta la vita questa mia brama di nobiltà d'animo io sono stato diciamo così un martire della nobiltà d'animo l'ho cercata con il lanternino con la lanterna di diogene eppure per tutta la vita non ho fatto che commettere canagliate come tutti noi signori cioè come me solo signori non tutti ma io solo io ho sbagliato io solo io solo signori mi fa male la testa e grottò la fronte con un'aria sofferente vedete signori non riuscivo a sopportare il suo aspetto c'era qualcosa di ignobile in lui di impudente quello sprezzo per tutto ciò che c'è di sacro quell'ironia quell'irriverenza qualcosa di sporco di sporco ma adesso che è morto la penso diversamente in che senso diversamente non diversamente ma rimpiango di averlo odiato tanto siete pentito no non pentito non scrivetelo questo è che neanch'io sono poi così buono signori neanch'io sono così bello per questo non avevo il diritto di considerarlo ripugnante ecco quello che penso questo scrivetelo per favore detto questo Mitia all'improvviso si fece straordinariamente triste diventava sempre più cupo man mano che procedeva l'interrogatorio e ad un tratto proprio in quel momento ebbe luogo una scena imprevedibile sebbene Grushenka fosse stata condotta via ella non si trovava molto lontano ma solo due stanze più in là della stanza azzurra nella quale aveva luogo l'interrogatorio era una stanzetta angusta con una finestra attigua alla sala nella quale si erano tenuti le danze e il festino ella si trovava in quella stanzetta in compagnia del solo Maximoff che era terribilmente avvilito terribilmente spaventato e si teneva stretta a lei come se ella fosse la sua unica salvezza a guardia dell'ingresso c'era un contadino con una placca sul petto Grushenka piangeva ma ad un tratto il dolore divenne intollerabile e la saltò in piedi batte le palme delle mani e lanciò un urlo a squarciagola oh che dolore il mio dolore e si precipita fuori dalla stanza per andare da lui da sua Mitia e in maniera così inaspettata che nessuno riuscì a fermarla Mitia dal canto suo udendo il suo urlo ebbe un fremito saltò in piedi e con un urlo si slanciò a capofitto incontro a lei come fuori di sé ma ancora una volta impedirono loro di ricongiungersi i due erano solo riusciti a vedersi bloccarono Mitia per le braccia egli si dibatteva nel tentativo di divincolarsi ci volero tre o quattro persone per trattenerlo afferrarono anche lei ed egli vide come ella allungava le braccia verso di lui con un grido mentre la portavano via una volta conclusa la scena egli si ritrovò seduto sulla stessa sedia dietro al tavolo di fronte al giudice istruttore e gridava che volete da lei perché la tormentate lei è innocente innocente il procuratore e il giudice istruttore cercavano di calmarlo e passarono così una decina di minuti finalmente Mikhail Makarovic che si era assentato entrò di corsa nella stanza e disse al procuratore a voce alta e concitata è stata allontanata si trova di sotto ma permettetemi di dire soltanto una parola a questo disgraziato signori in vostra presenza signori in vostra presenza ma prego fate pure Mikhail Makarovic disse il giudice istruttore in tal caso non abbiamo alcun diritto di opporci Dimitri Piotrovic ascolta Vatiushka esordì Mikhail Makarovic rivolto a Mitia mentre il suo volto agitato esprimeva una calda paterna compassione per quel disgraziato ho condotto io stesso la tua grafena Aleksandrovna al piano di sotto e l'ho affidata alle cure delle figlie del padrone e poi quel vecchietto Maximoff non la lascia un attimo l'ho convinta hai capito? l'ho convinta e calmata le ha fatto capire che adesso tu devi dare una spiegazione e che lei non deve dare fastidio non deve rattristarti altrimenti tu potresti perdere la testa e dire cose sbagliate nella tua deposizione capisci? insomma le ho parlato e lei ha capito è una donna intelligente fratello è buona stava per inginocchiarsi a baciare le mie mani di vecchio per implorare che ti aiutassi mi ha mandato lei stessa qui da te per dirti di stare tranquillo per lei ed io devo andare caro io devo andare a riferirle che anche tu sei tranquillo che anche tu ti sei calmato e ti sei consolato riguardo a lei e così devi stare calmo cerca di capire questo sono stato ingiusto con lei e lei è un'anima cristiana sì signori è un'anima gentile e non è colpevole di nulla e allora cosa devo dirle Dimitri Fjodorovic sarete calmo o no? quel bravo uomo aveva parlato anche troppo ma il dolore di Grushenka il dolore di una creatura umana aveva toccato il suo buon cuore ed egli aveva persino le lacrime agli occhi Mitia soltò in piedi e si slanciò verso di lui perdonatemi signori permettete gridò avete l'anima di un angelo di un angelo Mikhail Makarovic vi ringrazio per lei starò calmo calmo starò allegro ditele nell'infinita bontà del vostro cuore che sono allegro allegro adesso comincerò persino a ridere sapendo che con lei c'è un angelo custode come voi ben presto finirò e non appena mi sarò liberato andrò subito da lei vedrà che mi aspetti signori e si rivolge di scatto al procuratore e al giudice istruttore adesso vi aprirò tutta l'anima mia vi riverserò tutto finiremo tutto in un batter d'occhio finiremo allegramente alla fine rideremo tutti vero ma quella donna signori è la regina della mia anima permettete che ve lo dica vi rivelerò questo vedo che mi trovo con gente dai nobilissimi sentimenti e la mia luce la cosa più sacra che ho e se solo sapeste avete sentito quello che gridava affronterò anche la pena capitale insieme a te e io un pezzente senza il becco di un quattrino che cosa ho dato a lei come ho fatto a conquistarmi questo amore può una canaglia goffa e brutta come me meritare che ella mi ami tanto da venire ai lavori forzati con me e come si è gettata ai vostri piedi per amor mio lei che è così orgogliosa e che di nulla è colpevole come posso non adorarla come faccio a non urlare a non correre da lei come ho appena fatto signori perdonatemi ma adesso adesso mi sono consolato crollò sulla sedia e coprendosi il volto con tutte e due le mani scoppiò in un pianto di rotto ma adesso erano lacrime di felicità si riprese in un attimo pareva che il vecchio capo della polizia fosse molto soddisfatto e anche i magistrati capivano che l'interrogatorio stava per entrare in una nuova fase quando il capo della polizia fu uscito Miti era decisamente allegro allora signori adesso sono vostro sono tutto vostro e se non fosse per tutti questi piccoli dettagli troveremmo subito una comune intesa ma ecco che torno a parlare dei dettagli sono a vostra disposizione signori ma vi giuro che è necessaria una reciproca comprensione la mia verso di voi e la vostra verso di me altrimenti non la finiremo mai sto parlando nel vostro interesse al lavoro signori al lavoro e soprattutto non rovistate in quel modo nell'anima mia non seviziatela con queste sciocchezze ma domandatemi soltanto l'essenziale i fatti e io vi darò immediato soddisfazione al diavolo i particolari così disse Mitiya l'interrogatorio ricominciò tribolazione seconda voi non immaginate neppure quanto ci incoraggiate con la vostra disponibilità Dmitri Fiodorovic cominciò a dire Nicolai Perfenovic con aria animata e un'evidente soddisfazione che risplendeva nei suoi grandi occhi sporgenti color grigio chiaro molto miopi dai quali proprio qualche minuto prima aveva tolto gli occhiali e avete fatto un'osservazione molto giusta e a proposito di questa reciproca comprensione tra di noi senza la quale a volte è persino impossibile procedere in caso di tale importanza purché l'indiziato abbia la speranza e il desiderio di difendersi e sia nella posizione di farlo da parte nostra faremo tutto quello che è in nostro potere come voi stesso avete potuto notare dal modo stesso in cui stiamo conducendo questo caso voi approvate Ippolit Kirillovich e si rivolse a bruciapelo al procuratore senza dubbio approvò il procuratore anche se in tono un po' asciutto rispetto all'impetuosità di Nicolai Perfenovic noterò una volta per tutte che Nicolai Perfenovic arrivato solo di recente nella nostra città aveva nutrito sin dall'inizio una stima speciale nei confronti di Ippolit Kirillovich il procuratore e si era persino molto affezionato a lui egli era praticamente l'unica persona a credere fermamente nello straordinario talento sia di psicologo sia di oratore del nostro Ippolit Kirillovich danneggiato nei suoi meriti di servizio ed era l'unico a credere ciecamente che quello fosse stato danneggiato sul serio aveva sentito parlare di lui sin da quando studiava a Pietroburgo in compenso il giovane Nicolai Perfenovic dal canto suo sembrava l'unica persona al mondo al quale il nostro procuratore danneggiato volesse veramente bene durante il tragitto i due avevano fatto in tempo a mettersi d'accordo e a raggiungere un'intesa riguardo al presente caso e adesso a tavolino l'intelligenza sveglia di Nicolai Perfenovic coglieva a volo e interpretava ogni indicazione ogni movimento nel viso del suo collega più anziano gli bastava una mezza parola uno sguardo un ammiccamento signori lasciate soltanto che parli io non mi interrompete con delle sciocchezze e io vi racconterò tutto in un batter d'occhio disse Mitia Concitato benissimo signore vi ringrazio ma prima di passare all'ascolto della vostra comunicazione permettetemi di constatare un piccolo fatto per noi molto interessante proprio riguardo a quei dieci rubli che voi ieri verso le cinque del pomeriggio avete preso in prestito impegnando le vostre pistole dal vostro conoscente Piotr Ilis Perciotin le ho impegnate signori le ho impegnate per dieci rubli che c'è da dire è tutto lì non appena ho fatto ritorno in città le ho impegnate subito tornavate da un viaggio dunque siete stato fuori città sono stato fuori città signori a quaranta versi di distanza ma non lo sapevate il procuratore e Nicolai Perfenovic si scambiarono un'occhiata e se incominciaste il vostro racconto con la descrizione sistematica della vostra giornata di ieri a partire dalla mattina permetteteci per esempio di domandare per quale motivo vi siete assentato dalla città a che ora siete partito e a che ora siete tornato e tutte le altre circostanze di questo genere avreste dovuto interrogarmi in questo modo sin dall'inizio scoppiò a ridere Mitia e se volete non cominceremo da ieri ma dalla mattina di ieri l'altro allora capirete dove sono andato come e per quale motivo la mattina di ieri l'altro signori mi sono recato dal nostro concittadino il mercante Samsonov per prendere in prestito da lui la somma di 3.000 rubli a fronte di sicurissime garanzie ne aveva un bisogno improrogabile improrogabile permettetemi di interrompervi lo interruppe gentilmente il procuratore come mai vi trovavate ad avere bisogno all'improvviso proprio di quella somma cioè di 3.000 rubli signori non occorre scendere in simili dettagli come quando e perché e perché proprio quella somma e non un'altra e tutte queste quisquiglie che non basterebbero tre tomi per scriverle tutte e poi ci vorrebbe anche l'epilogo quindi pronunciò queste parole con la familiarità bonaria ma impaziente di chi desidera dire tutta la verità ed è animato da tutte le migliori intenzioni signori sembrò correggersi in tutta fretta non ve ne abbiate a male per la mia erruenza vi prego ancora una volta credetemi nutro il massimo rispetto verso di voi e comprendo l'attuale stato delle cose non pensiate che io sia ubriaco sono completamente sobrio adesso e anche se fossi ubriaco la cosa non sarebbe di alcun impedimento per me vale quel detto smaltì la sbronza rinsavì e divenne stupido si ubriacò scimunì e divenne intelligente del resto mi rendo conto signori che è disdicevole da parte mia fare dello spirito con voi minchè non ci saremmo spiegati credo di dover tenere alto il mio onore capisco perfettamente la differenza che c'è adesso tra di noi dopo tutto mi trovo qui davanti a voi in veste di reo dunque sono lungi dall'essere vostro pari e voi avete il compito di sorvegliarmi non mi aspetto che mi diate una pacca sulla testa per le percosse a Grigori non si può andare in giro a fracassare le teste dei vecchi impunemente penso che per questo mi farete rinchiudere per sei mesi diciamo forse anche un anno in una casa di correzione non so come giudicano di solito da voi senza perdere però i miei diritti senza perdere i diritti vero procuratore ecco vedete signori che comprendo benissimo le differenze che c'è fra noi ma converrete pure che potreste confondere Dio in persona con domande come dove ti trovavi come quando e che cosa hai fatto io mi confonderò del tutto se continuate a fare così e voi subito giù a scrivere senza andare tanto per il sottile ma che cosa ne verrà fuori non ne verrà fuori niente sì anche se sto dicendo cose prive di senso lasciatemi finire e voi signori che siete persone altamente istruite e di nobilissimi sentimenti mi perdonerete concluderò con una richiesta abbandonate la prassi burocratica dell'interrogatorio signori e cioè smettetela di prendere le mosse dai dettagli più squallidi e insignificanti come mi sono alzato che cosa ho mangiato come ho sputato e poi dopo aver addormentato l'attenzione del criminale lo stordite a bruciabello con una domanda stupefacente chi hai ucciso chi hai derubato questa è la prassi burocratica questa è la norma per voi lo capisco ecco su cosa si fonda tutta la vostra astuzia potete buggerare i contadini con questi stratagemmi non certo me io so come vanno le cose ho prestato servizio anch'io non ve la prendete signori perdonerete la mia impertinenza gridò guardandoli con una buonarietà quasi sbalorditiva l'ha detto Dmitry Karamazov dunque si può perdonare sarebbe imperdonabile da parte di un uomo assennato ma la mitca si può perdonare Nikolai Perfenovic ascoltava e rideva anche lui il procuratore anche se non rideva teneva lo sguardo fisso e vigile su mitia senza abbassarlo mai come se non volesse perdere neanche una parolina neanche un gesto neanche la minima contrazione di un tratto del suo viso ma vi abbiamo trattato a questo modo sin dall'inizio replicò Nikolai Perfenovic continuando a ridere non abbiamo affatto cercato di confondervi con le domande come vi siete alzato stamattina e che cosa avete mangiato ma siamo andati anche troppo al sodo capisco ho capito e ho apprezzato e apprezzo ancora di più la bontà che adesso dimostrate nei miei confronti una bontà senza precedenti degna di nobili cuori siamo tutti e tre dei gentiluomini che tutti quindi si proceda sulla base della fiducia reciproca tra persone istruite e di modo che hanno in comune il legame della nobiltà e dell'onore in ogni caso permettetemi di considerarvi tra i miei migliori amici in questo momento della mia vita in questo momento di umiliazione del mio cuore non è un'offesa per voi non è un'offesa al contrario avete espresso meravigliosamente tutto questo Dimitri Fiodorovic convene a Nicolai Perfenovic con aria dignitosa e di approvazione ma basta con i dettagli signori basta con tutti questi dettagli cavillosi esclamò Mitia con entusiasmo altrimenti non sappiamo neanche dove si va a finire non è vero seguirò per filo e per segno i vostri assennati consigli intervenne di punto in bianco il procuratore rivolgendosi a Mitia ma non ritirerò la mia domanda è troppo essenziale per noi sapere come mai vi occorreva proprio quella cifra vale a dire la somma di 3.000 rubli perché mi occorreva per il fatto che beh per saldare un debito contratto con chi mi rifiuto categoricamente di dirlo signori vedete non è che non possa dirlo che me ne manchi il coraggio né che possa essere messo in pericolo dal momento che è una faccenda di nessun conto una sciocchezza ma non lo dirò perché è una questione di principio è la mia vita privata e io non ammetto alcuna intrusione nella mia vita privata questo è il mio principio la vostra domanda non ha alcuna attinenza con questo caso e tutto quello che non ha attinenza con questo caso riguarda soltanto la mia vita privata volevo saldare un debito volevo saldare un debito d'onore contratto con chi non lo dirò permettetemi di prendere nota di questo disse il procuratore fate come credete scrivete proprio così che non lo dirò non lo dirò mai scrivete pure signori che considero persino disonorevole dirlo eh sì ne avete di tempo per scrivere permettete che vi avvisi vi ricordi un'altra volta egreso signore nel caso che non lo sapeste disse il procuratore in tono di speciale e rigido ammonimento che avete tutti i diritti di non rispondere alle domande che vi vengono poste adesso e noi nel canto nostro non abbiamo alcun diritto di estorcervi risposte se voi stesso vi rifiutate di rispondere per un motivo o per l'altro aspetta unicamente a voi scegliere di rispondere ma è nostro dovere d'altro canto in casi come questo spiegarvi e farvi presente la misura del danno che procurate a voi stesso rifiutandovi di fornire questa o quella dichiarazione detto questo vi invito a continuare signori non sono affatto dirato io fece per borbottare mitia con un tono un po' sconcertato dall'ammonimento ecco vedete quel sansonov dal quale mi sono recato noi ovviamente non staremo a riportare nei particolari il suo racconto riguardo ai fatti già noti al lettore il narratore era ansioso di non trascurare neanche il minimo dettaglio e allo stesso tempo aveva fretta di venirne a capo al più presto ma dal momento che stavano verbalizzando la sua deposizione erano costretti a interromperlo di continuo a Dmitri Fiodorovic questo non piaceva ma si sottometteva alla procedura si irritava ma ancora con una certa buonarietà vero è che di tanto in tanto esclamava signori questo farebbe perdere la pazienza al padre eterno in persona oppure signori ma lo sapete che mi fate proprio uscire dai gangheri eppure mentre prorompeva in queste esclamazioni egli continuava a conservare la sua espansiva disposizione di spirito così raccontò di come lo aveva raggirato Samsonov due giorni prima si era ormai reso perfettamente conto di essere stato raggirato la notizia della vendita dell'orologio al prezzo di 6 rubli per procurarsi il denaro del viaggio una novità per il giudice istruttore e il procuratore suscitò immediatamente grande attenzione da parte loro con somma indignazione da parte di Mitia dal momento che quelli ritenero doveroso verbalizzare questo fatto in ogni dettaglio ad ennesima conferma della circostanza che sino al giorno prima egli non aveva il becco di un quattrino a poco a poco Mitia si faceva sempre più cupo poi dopo aver descritto il suo viaggio per vedere gli agavi e la notte che aveva passato nell'isba asfissiante e tutto il resto egli passò a raccontare il suo ritorno in città e a questo punto senza essere sollecitato egli cominciò a fornire un dettagliato resoconto delle sue pene di gelosia per Grushenka lo ascoltavano in silenzio molto attenti indagarono in particolare sulla circostanza che egli avesse da un pezzo un posto di vedetta per sorvegliare l'arrivo di Grushenka da Fiodor Paulovic sul retro in casa di Maria Condratevna e anche sul fatto che Smerdiacov lo tenesse informato attribuirono particolare valore a queste informazioni e ne presero nota sulla propria gelosia egli si diffuse con calore e sebbene si vergognasse di esporre i propri sentimenti più intimi al pubblico ludibrio diciamo così egli evidentemente si sforzava di superare la vergogna al fine di dare tutta la verità la fredda severità con la quale lo fissavano il giudice istruttore e soprattutto il procuratore mentre egli parlava finirono per sconcertarlo del tutto questo ragazzo Nicolai Parfenovic con il quale solo qualche giorno fa ho scambiato sciocchi commenti sulle donne e questo procuratore malato non meritano di ascoltare quello che gli sto raccontando pensò con tristezza che vergogna si paziente umile taci concluse con questo verso i suoi pensieri ma cercò di farsi forza per proseguire il suo racconto quando passò a raccontare la visita alla cioclacova divenne perfino allegro e avrebbe anche voluto soffermarsi su un certo aneddoto che circolava di recente sul conto di quella signora che non c'entrava affatto con l'interrogatorio ma il giudice istruttore lo fermò e lo pregò gentilmente di passare a fatti più essenziali finalmente quando descrisse la propria disperazione e disse loro che dopo essere andato via dalla casa della cioclacova aveva pensato di procurarsi quei 3.000 rubli anche a costo di scannare qualcuno lo fermarono un'altra volta e misero agli atti che aveva avuto intenzione di scannare qualcuno e Mitya lasciò che scrivessero senza protestare alla fine raggiunse quel punto della sua storia quando egli aveva appreso che Grushenka lo aveva ingannato e aveva lasciato la casa di Samsonov subito dopo che lui ce l'aveva accompagnata mentre la stessa aveva detto che sarebbe rimasta lì sino a mezzanotte non ho ucciso Fenia in quel momento signori solo perché non ne avevo il tempo si lasciò sfuggire a quel punto del suo racconto e quelli ne presero diligentemente nota Mitya attese con aria cupa ed era sul punto di raccontare di come si era precipitato dal padre nel giardino quando il giudice istruttore lo interruppe e aperta la voluminosa cartella che giaceva accanto a lui sul divano ne strasse il pestello di ottone riconoscete questo oggetto e lo mostrò Amitya oh sì sorrise lui cupamente come non riconoscerlo datemelo qui che ci dà un'occhiata ma al diavolo che importa avete dimenticato di menzionarlo osservò il giudice istruttore al diavolo non ve l'avrei mai nascosto pensate mai che avrei potuto fare a meno di menzionarlo mi è semplicemente sfuggito abbiate la compiacenza di raccontarci la circostanza nella quale siete entrato in possesso di quell'arnese certamente avrò questa compiacenza signori e Amitya raccontò di come aveva preso il pestello ed era fuggito via ma che scopo avevate nell'armarvi di un'arnese simile che scopo nessuno scopo l'ho preso e sono corso via ma per quale motivo se non ne avevate uno scopo la rabbia ribolliva dentro di Amitya e gli fissò il ragazzo e sorrise cupamente con cattiveria il fatto era che si vergognava sempre di più per il fatto di aver raccontato con tanta sincerità la storia della propria gelosia a gente del genere all'inferno quel pestello prorruppe all'improvviso tuttavia beh per tenere lontani i cani diciamo perché era buio insomma per ogni evenienza anche in passato avete preso con voi qualche arma uscendo di notte dal momento che il buio vi fa tanta paura al diavolo signori con voi è letteralmente impossibile parlare gridò Amitya irritato sino all'esasperazione rivolgendosi allo scrivano tutto rosso per la rabbia con una nota di rabbia nella voce gli disse in fretta scrivi presto presto che ho preso con me il pestello per andare ad ammazzare mio padre Fiodor Paolovis con una botta in testa beh siete soddisfatti adesso signori vi sentite più sollevati disse fissando con aria di sfida il giudice istruttore e il procuratore noi comprendiamo benissimo che avete fatto una simile dichiarazione perché siete esasperato da noi e adirato per le domande che vi poniamo e che voi considerate di secondaria importanza mentre invece sono essenziali replicò seccamente il procuratore ma di grazia signori beh ho preso il pestello beh perché si prendono degli oggetti in mano in questi casi non lo so perché l'ho preso e sono corso via tutto qui è vergognoso signori passant dichiaro che non dirò più una parola e gli puntò i gomiti sul tavolo e poggiò la testa sulla mano era seduto di lato rispetto a loro e guardava il muro mentre cercava di reprimere un attacco di nausea in realtà aveva una voglia terribile di alzarsi e dichiarare che non avrebbe detto più una sola parola neanche se lo avessero condannato alla pena di morte vedete signori disse all'improvviso sforzandosi di controllarsi vedete io vi ascolto e mi viene in mente una cosa io sapete faccio spesso un sogno un sogno ricorrente sempre lo stesso che qualcuno mi dà la caccia qualcuno del quale ho una paura terribile mi insegue al buio di notte mi cerca e io mi nascondo da qualche parte dietro una porta o un armadio mi nascondo in modo mortificante e il peggio è che dovunque io mi nasconda e gli sa sempre il mio nascondiglio ma fa finta di non saperlo a bella posta per prolungare la mia agonia per godere della mia paura è quello che state facendo voi adesso esattamente lo stesso è questo genere di sogni che fate si informò il procuratore sì è questo non volete verbalizzarlo disse Mitia con un ghigno no non occorre verbalizzarlo comunque fate dei sogni interessanti non è questione di sogni adesso è la vita reale questa signori la vita reale io sono il lupo e voi i cacciatori allora abbattete questo lupo avete torto a fare un simile paragone presi a dire nicolai per fenovi in tono millifluo non ho torto signori non ho torto sbottò Mitia ancora una volta anche se evidentemente quello scoppio d'ira gli aveva alleggerito il cuore ed egli diventava più buono ad ogni parola potete pure non credere a un criminale o un imputato sottoposto alle torture delle vostre domande ma a un uomo nobile signori all'impeto nobilissimo di un'anima lo grido a testa alta no non potete non credere non ne avete nemmeno il diritto ma taci cuore si paziente umile e taci e allora andiamo avanti o no tagliò corto con aria cupa come no siate così gentile rispose nicolai parfenovic tribolazione terza sebbene Mitia avesse cominciato a parlare in tono severo era evidente che si stava impegnando ancora più di prima a non dimenticare o tralasciare alcun dettaglio della sua storia raccontò di come aveva scavalcato lo steccato per saltare dentro il giardino paterno come aveva raggiunto la finestra e tutto quello che era avvenuto sotto quella finestra e gli descrisse con precisione chiarezza quasi scandendo le parole i sentimenti che lo agitavano in quegli istanti nel giardino quando moriva dalla voglia di sapere se Grushenka si trovasse davvero in casa di suo padre ma strano a dirsi questa volta sia il procuratore sia il giudice istruttore lo ascoltavano con una sorta di incredibile discrezione lo guardavano con freddezza ponendogli assai meno domande di prima Mitia non riusciva a farsi nessuna idea delle loro facce sono arrabbiati e offesi pensò ma che vadano al diavolo quando raccontò del momento in cui si era deciso finalmente a dare al padre il segnale che Grushenka era arrivata in maniera che quello aprisse la finestra allora il procuratore e il giudice istruttore non prestarono la minima attenzione alla parola segnale come se non comprendessero affatto che significato avesse quella parola in quel contesto tanto che anche Mitia ne restò colpito quando finalmente arrivò al punto in cui vedendo sporgere suo padre fuori dalla finestra egli si era sentito ribollire d'ira e aveva estratto d'impeto il pestello dalla tasca egli quasi di proposito fece una pausa se ne stava seduto a fissare la parete consapevole che quelli lo stavano fissando con tanto d'occhi beh disse il giudice istruttore avete estratto l'arma e poi che cosa è successo poi poi l'ho ucciso gli ho dato una botta in testa e gli ho fracassato il cranio è andata così secondo voi così vero disse con gli occhi di fuoco tutta la rabbia che poco prima si era estinta avvampò d'un tratto nella sua anima con straordinaria violenza secondo noi ripete di rimando Nicolai Perfenovic e secondo voi com'è andata invece mi ti abbasso gli occhi e tacque a lungo secondo me signori secondo me è andata così disse in tono sommesso forse le lacrime di qualcuno forse mia madre ha pregato Dio per me oppure uno spirito buono mi ha baciato in quel momento non lo so ma il diavolo fu sconfitto scappai via da quella finestra e mi mise a correre verso lo steccato mio padre si spaventò e fu solo allora che si accorse della mia presenza lanciò un urlo e si allontanò con un balzo dalla finestra questo me lo ricordo con esattezza intanto attraversavo di corsa il giardino per andare allo steccato e fu lì che Grigori mi raggiunse mentre mi trovavo già a cavalcioni dello steccato a quel punto egli finalmente sollevò gli occhi verso i suoi ascoltatori sembrava che quelli lo guardassero con pacata attenzione uno spasimo di indignazione attraverso l'animo di Mitia voi signori in questo momento vi state prendendo a gioco di me proruppi all'improvviso che cosa ve lo fa pensare osservò Nicolai Perfenovic non credete a una sola parola ecco perché mi rendo conto ovviamente di essere arrivato a un punto nodale il vecchio adesso già ce l'ha con il cranio fracassato mentre io dopo aver descritto in toni tragici come volevo ucciderlo e il modo in cui ho estratto il pestello mi vengo a raccontare che sono corso via da quella finestra un poema in versi come se si potesse credere alla parola di questo bravo ragazzo siete degli scarnitori signori e si girò con tutto il corpo sulla sedia tanto che quella scricchiolò e non avete notato presse a dire al procuratore come se non avesse prestato attenzione all'agitazione di mitia non avete notato mentre vi allontanavate di corsa dalla finestra se la porta che si trova all'altro capo della dipendenza quella che dà sul giardino era aperta oppure no no non era aperta non era aperta era chiusa invece e chi mai avrebbe potuto aprirla ma aspettate un po' la porta sembrò ravvedersi all'improvviso e quasi trassa lì l'avete forse trovata aperta sì aperta ma chi poteva averla aperta se non siete stato voi domandò mitia con estremo stupore la porta era aperta e l'assassino di vostro padre senza dubbio è entrato da questa porta e dopo aver compiuto il delitto è uscito sempre da quella porta proferì il procuratore scandendo le parole lentamente una alla volta questo è perfettamente chiaro per noi l'assassino fu commesso all'interno della stanza e non attraverso la finestra questo è risultato perfettamente chiaro dal sopralluogo eseguito dalla posizione del corpo e da tutto il resto non sussiste alcun dubbio su questa circostanza mitia era completamente sbigottito ma questo non è possibile signori grida lui smarrito io io non sono entrato ve lo dico per certo con sicurezza che la porta era stata chiusa per tutto il tempo che sono rimasto in giardino ed era chiusa anche mentre fuggivo dal giardino io sono sempre rimasto sotto la finestra e ho visto lui solo attraverso la finestra solo così solo così ricordo che è rimasta chiusa sino all'ultimo e anche se non ne conservassi il ricordo comunque lo saprei perché i segnali erano noti soltanto a me e smerdiakov e a lui al defunto e lui senza quei segnali non avrebbe aperto a nessun modo segnali quali segnali con una curiosità avida quasi isterica domandò il procuratore e in un attimo abbandonò la sua aria di dignitosa discrezione pose la domanda con una sorta di insinuante timidezza aveva affiutato la rilevanza di un fatto del quale non era ancora a conoscenza e di colpo aveva avuto paura che Mitia non glielo volesse svelare del tutto ah non lo sapevate disse Mitia ammiccando con un sorrisetto ironico e maligno chi accadrebbe se non ve lo dicessi da chi potreste venirlo a sapere allora nessuno era a conoscenza di quei segnali eccetto il defunto io e Smerdiakov nessun altro anche il cielo li conosceva ma quello certo non vi dirà nulla ma è un faterello interessante lo sa solo il diavolo che cosa ci potreste imbastire sopra calmatevi signori ve lo svelerò qualche stupida idea vi frulla in testa non sapete con chi avete a che fare voi avete a che fare vi dico con un imputato che fornisce da solo le prove contro se stesso ha proprio danno sì già che io sono un principe dell'onore mentre voi no il procuratore mandava giù tutte quelle pillole tremava tanto per l'impazienza di conoscere quella nuova circostanza Mitia gli espose diffusamente con precisione tutto ciò che riguardava quei segnali escogitati da Fyodor Paolovich per Smerdiakov raccontò che cosa significava ogni colpo alla porta batte persino sul tavolo quei segni convenzionali e alla domanda di Nicolai Parfenovic se lui Mitia avesse bussato alla finestra del vecchio proprio con quel segnale che significava Grushenka è arrivata e gli rispose che aveva bussato proprio il segnale che stava per indicare Grushenka è arrivata ecco a voi adesso costruiteci sopra la vostra torre sbottò Mitia e ancora si girò dall'altra parte con aria di disprezzo e nessun altro sapeva di quei segnali a parte il vostro defunto genitore e voi e il servo Smerdiakov nessun altro si informò ancora una volta Nicolai Parfenovic sì il servo Smerdiakov e poi il cielo verbalizzate anche il cielo potrebbe sempre tornare utile e poi anche voi potreste trovarvi ad avere bisogno di Dio quelli ovviamente avevano già cominciato a verbalizzare ma mentre verbalizzavano il procuratore all'improvviso come se si fosse ad un tratto imbattuto in una nuova idea disse e allora se anche Smerdiakov sapeva di quei segnali e voi negate nella maniera più assoluta ogni responsabilità nell'omicidio di vostro padre non potrebbe essere stato lui ad indurre vostro padre ad aprire la porta dopo aver bussato quei segnali convenzionali e poi avere commesso il delitto Mitia rivolse verso di lui uno sguardo ironico e allo stesso tempo calico d'odio il suo sguardo silenzioso durò così a lungo che il procuratore cominciò a battere le palpebre avete catturato la volpe un'altra volta disse infine Mitia avete agguantato quella canaglia per la coda leggo da parte a parte dentro di voi procuratore voi naturalmente pensavate che sarai saltato su e mi sarai appigliato al vostro suggerimento per gridare a squarciavola ai è stato Smerdiakov e lui l'assassino ammettetelo che pensavate questo ammettetelo e allora continueremo ma il procuratore non lo ammise taceva e aspettava mi siete sbagliato io non griderò contro Smerdiakov disse Mitia e non sospettate minimamente di lui e voi sospettate di lui abbiamo sospettato anche di lui Mitia fissò lo sguardo sul pavimento scherzi a parte disse lui cupamente ascoltate sin dall'inizio quasi sin dal momento in cui vi sono balzato davanti da dietro la tenda mi ha balenato in testa questo pensiero Smerdiakov mentre sedevo qui a questo tavolo e gridavo di essere innocente di quel sangue non facevo che pensare e ripensare Smerdiakov e Smerdiakov non mi usciva dall'anima e infine adesso di punto in bianco Smerdiakov ma solo per un attimo poi immediatamente dopo ho pensato no non è stato Smerdiakov non è opera sua signori se qualcun altro sul quale nutrita sospetti in questo caso fece per domandargli con cautela Nicolai Parfenovic non so chi potrebbe avere fatto una cosa del genere la mano del cielo satana ma non Smerdiakov tagliò corto bruscamente Mitia ma cosa vi induce a dichiarare con tanta fermezza e insistenza che non è stato lui è una mia convinzione un'impressione perché Smerdiakov è una persona abietta per natura ed è un codardo anzi non è un codardo è il concentrato ambulante di tutta la codardia del mondo messa insieme è stato generato da una gallina quando parlava con me tremava sempre per la paura che io lo ammazzassi sebbene io non abbia mai alzato un dito contro di lui cadeva ai miei piedi e piangeva baciava questi miei stivali letteralmente supplicandomi di non spaventarlo avete sentito? non spaventarlo ma sono queste cose da dirsi è io che gli davo pure delle mance quello è una gallina malata di mal caduco debole di cervello uno che si farebbe battere da un ragazzetto di otto anni è forse un carattere capace di commettere un simile delitto no non è stato smerdiacov signori e poi quello non è nemmeno attaccato ai soldi non accettava mai le mie mance e poi che motivo avrebbe avuto di uccidere il vecchio con ogni probabilità il suo figlio suo figlio naturale lo sapete questo vero? abbiamo sentito questa leggenda ma anche voi siete figli di vostro padre eppure avete dichiarato a destra e a manca che volevate ucciderlo questo è un brutto tiro un tiro a bietto ma io non ho paura signori non pensate che sia troppo meschino da parte vostra dirmi rinfacciarmi queste cose meschino proprio perché sono stato io stesso a dirvelo non solo volevo ammazzarlo ma avrei potuto farlo e per di più mi sono accusato volontariamente dicendo di essere stato vicinissimo ad ucciderlo ma poi non l'ho ucciso evidentemente mi ha salvato il mio angelo custode ecco che cosa voi non avete preso in considerazione ecco perché è meschino meschino da parte vostra perché io non ho ucciso non ho ucciso non ho ucciso mi sentite procuratore non ho ucciso a momenti soffocava da quando era iniziato l'interrogatorio non era mai stato così agitato e lui che cosa vi ha detto signori smerdi a cofintendo concluse poi dopo un breve silenzio sei illecito porvi la domanda voi potete farci qualsiasi domanda rispose il procuratore in tono freddo e severo qualsiasi domanda che riguardi i fatti inerenti al caso e noi dal nostro canto ve lo ripeto siamo quasi obbligati a darvi soddisfazione per ogni vostra domanda abbiamo trovato il servo smerdiakov che giaceva privo di conoscenza nel suo letto in preda a un gravissimo attacco epilettico che si ripeteva forse per la decima volta di seguito il dottore che era con noi dopo averlo visitato ci ha detto che forse non avrebbe passato la notte beh in tal caso è stato il diavolo ad uccidere mio padre proruppe mitia come se fino a quel momento non avesse fatto altro che domandarsi è stato smerdiakov oppure no torneremo ancora sull'argomento disse nikolai perfenovic ma adesso non potreste proseguire con la vostra deposizione mitia chiese un attimo di pausa glielo concessero con gentilezza dopo aver riposato proseguì la sua storia ma era evidente che gli riusciva penoso e gli era esausto mortificato e moralmente scosso per di più il procuratore lo esasperava ad ogni piesso spinto gli sarebbe detto che lo facesse apposta adesso con la sua fissazione per i dettagli mitia aveva appena finito di raccontare di come a cavalcioni sullo steccato avesse con il pestello ferito alla testa grigori che gli stava aggrappato alla gamba sinistra e poi era subito balzato giù verso il sarvo atterrato quando il procuratore lo fermò e gli chiese di descrivere con maggiori dettagli la posizione in cui stava seduto a cavalcioni sullo steccato mitia restò stupito stavo seduto così a cavalcioni con una gamba di qua e l'altra di là e il pestello il pestello in mano non in tasca lo ricordate con precisione questo lo avete colpito con molta violenza credo di sì ma perché me lo domandate vi dispiacerebbe mettervi a sedere sulla sedia nella stessa posizione in cui eravate seduto sullo steccato e mostrarci per chiarirci le idee come e dove lo avete colpito da quale parte non vi state prendendo gioco di me vero domandò mitia guardando con aria altera l'inquirente ma quello non batte ciglio mitia si voltò febbrilmente si sedette a cavalcioni sulla sedia e agitò in braccio come per assestare un colpo ecco come l'ho colpito ecco come ha ucciso che volete ancora vi ringrazio vi dispiacerebbe adesso spiegarci il motivo esatto per cui siete saltato giù a che scopo e che cosa avevate in mente ma al diavolo sono saltato verso il salvo atterrato non lo so il perché eppure eravate agitato in fuga non è vero sì ero agitato in fuga volevate aiutarlo come aiutarlo sì forse anche aiutarlo non ricordo non ricordate allora vi trovavate come in stato di incoscienza oh no non in stato di incoscienza ricordo tutto tutto sino ai minimi particolari sono saltato giù per dare un'occhiata e gli ho asciugato il sangue con il fazzoletto abbiamo visto il vostro fazzoletto speravate di riportare in vita colui che avevate abbattuto non so che cosa sperassi volevo semplicemente accertarmi se fosse vivo o no e così volevate accertarvi di questo e allora non sono un medico non riuscii a stabilirlo scappai pensando di averlo ammazzato ma adesso si è ripreso benissimo signore concluse il procuratore vi ringrazio era tutto quello che volevo sapere andate avanti per cortesia ahimè l'amitié non posso neanche per la mente di raccontare sebbene se ne ricordasse che era saltato giù per pietà e che accanto alla vittima aveva persino pronunciato qualche parola di pietà sei capitato vecchio non c'è niente da fare adesso statene lì invece il procuratore non poteva che trarre una sola conclusione e cioè che quell'uomo era saltato giù in un momento simile e con una tale agitazione addosso esclusivamente per accertarsi se fosse vivo l'unico testimone del proprio delitto che forza che risolutezza che sangue freddo e che capacità di calcolo aveva dimostrato quell'uomo in un momento simile e così via il procuratore era soddisfatto ho esasperato un soggetto irritabile con i dettagli ed egli si è tradito mitia proseguiva con uno sforzo penoso ma nicolai perfenovi lo interruppe per l'ennesima volta come avete potuto irrompere in casa della serva fedosia margovna con tutto quel sangue sulle mani e come è risultato in seguito anche sul viso ma allora non mi ero affatto accorto di essere sporco di sangue rispose mitia è verosimile capita alle volte il procuratore scambiò un'occhiata con nicolai perfinovich non me ne ero per nulla accorto avete detto benissimo procuratore approvò ad un tratto mitia ma poi seguì la storia dell'improvvisa decisione di mitia di farsi da parte e di lasciar passare le due creature felici ormai non riusciva in nessun modo a svelare il proprio cuore come prima e a raccontare della regina dell'anima sua gli ripugnava davanti a quelle persone fredde che gli stavano addosso come cimici e così in risposta alle loro reiterate domande dichiarò con brusca concisione beh avevo deciso di uccidermi a che scopo continuare a vivere questa domanda mi saltò in mente spontaneamente era tornato il suo primo indiscutibile amore colui che l'aveva oltreggiata sì ma che ora correva da lei con il suo amore per riparare l'offesa dopo cinque anni con un regolare matrimonio avevo capito che per me era finita e poi alle spalle avevo quell'infamia quel sangue il sangue di Grigori a che scopo vivere così andai a riscattare le pistole che avevo pignorato per caricarle e spararmi un colpo alle cervelle all'alba e fare una gran baldoria la notte una gran baldoria la notte ma al diavolo signori facciamola finita al più presto avevo davvero intenzione di spararmi non lontano da qui nei dintorni del villaggio avevo progettato di farlo verso le cinque del mattino avevo preparato un bigliettino ed è qui in tasca l'avevo scritto da perciotin dopo aver caricato le pistole ecco qui il bigliettino leggete non è per voi che sto raccontando questo soggiunse di punto in bianco in tono sprezzante gettò sul tavolo verso di loro quel foglietto che aveva tratto dalla tasca del panciotto gli inquirenti la essero con grande attenzione e come di prassi lo allegarono agli atti ma non vi venne in mente di lavarvi le mani neanche quando arrivaste a casa del signor perciotin non temevate di destare sospetti quali sospetti sospetti o non sospetti sarei comunque corso qui e alle cinque mi sarei sparato e non avrebbero fatto in tempo a farmi nulla se non fosse stato per l'incidente di mio padre non ne avreste saputo niente e non sareste mai venuti qui ma è stato il diavolo è stato il diavolo ad uccidere mio padre è per colpa del diavolo che siete venuti a saperlo così presto come avete fatto ad arrivare così presto è stupefacente fantastico il signor perciotin ci ha riferito che al momento di entrare a casa sua tenevate in mano con quelle mani insanguinate i vostri soldi molti soldi un mucchio di banconote da cento rubli che ha notato anche il ragazzo di servizio è così signori mi ricordo che è andata proprio così adesso sorge una piccola questione potreste dirci presa a dire Nicolai Perfenovic in tono estremamente mellifruo dove vi siete procurato tanto denaro tutto ad un tratto quando dal resoconto dei fatti e dal calcolo dei tempi risulta che non siete nemmeno passato di casa il procuratore si acigliò leggermente a quella domanda posta senza mezzi termini ma non interruppe Nicolai Perfenovic no non sono passato da casa rispose Miti all'apparenza estremamente calmo ma con gli occhi abbassati permettete che vi ripeta la domanda in questo caso incalzava Nicolai Perfenovic insidiandolo dove potevate procurarvi una simile somma quando secondo le vostre stesse dichiarazioni solo alle 5 del pomeriggio di quello stesso giorno mi sono trovato ad aver bisogno di 10 rubli e ho impegnato le pistole da Perciotin poi mi sono recato dalla Cioclacova per chiederle 3000 rubli e quella non me li ha dati e così di seguito tutto il resto lo interruppe bruscamente Mitia si proprio così avevo bisogno di soldi e poi tutto ad un tratto sono comparse quelle migliaia di rubli e allora sapete signori adesso tutti e due avete una gran paura che io non vi dica da dove ho preso quei soldi ed è proprio così non ve lo dirò signori avete indovinato non lo saprete scandimite all'improvviso con estrema determinatezza i giudici tacquero per un momento cercate di capire signor Karamazov che è essenziale per noi sapere questo disse Nicolai Perfenovic in tono sommesso e pacato lo capisco ma non ve lo dirò lo stesso intervenne anche il procuratore e gli ricordò un'altra volta che l'interrogato aveva certo la facoltà di non rispondere alle domande se riteneva tale comportamento confacente ai propri interessi ma considerato il danno che l'indiziato poteva arrecare a se stesso con la propria reticenza soprattutto in relazione a domande di una tale importanza che eccetera eccetera signori basta così questo sermone l'ho già sentito prima Mitia l'interruppe nuovamente mi rendo conto da me dell'importanza della questione e che questo è un punto vitale ma non lo dirò lo stesso a noi che importa non sono mica fatti nostri ma vostri procurate un danno a voi stesso osservò il nervosito Nicolai Perfenovic vedete signori scherzi a parte Mitia alzò di scatto lo sguardo verso di loro e li guardò entrambi con l'espressione decisa sin dall'inizio ho avuto il presentimento che noi avremmo cozzato la testa proprio su questo punto ma all'inizio quando ho cominciato a rilasciare la mia deposizione tutto questo era lontano avvolto nella nebbia fluttuante e sono stato così ingenuo da partire con la proposta di una reciproca fiducia fra di noi adesso mi rendo conto che questa fiducia è fuori discussione dal momento che in ogni caso saremmo arrivati a questa maledetta barriera ed ecco che ci siamo arrivati non si può andare oltre e tutto è finito dal resto non ve ne faccio una colpa non è possibile neanche per voi credermi sulla parola questo lo capisco certo e si chiuse in un cupo silenzio e non potreste senza minimamente trasgredire il vostro proposito di tacere su un punto così fondamentale non potreste nel contempo darci anche solo un minimo accenno a quei gravi motivi che vi indurrebbero al silenzio in un momento così delicato della vostra deposizione mi ti sorriso amestamente è come sovrappensiero sono molto più buono di quanto voi pensiate signori io vi dirò il perché e vi darò questo accenno anche se non ve lo meritate io taccio signori perché qui per me si nasconde un'infamia nella risposta alla domanda da dove avete preso quei soldi si racchiude per me un'infamia di fronte alla quale impallidirebbe anche la colpa dell'assassinio e del furto contro mio padre nel caso in cui fossi stato davvero io ad ucciderlo e derubarlo ecco perché non posso parlare non posso a causa di questa infamia ma signori volete verbalizzare anche questo sì lo verbalizzeremo valbetò Nicolai Parfenovic non dovreste scrivere questo fatto dell'infamia vi ho reso questa testimonianza solo per bontà avrei potuto anche non dirvi una parola vi ho fatto un regalo in questo modo e invece voi giù a scrivere senza andare tanto per il sottile ma sì scrivete scrivete quello che volete concluse con disprezzo e avversione non mi fate paura e posso andare a testa alta davanti a voi e non potreste dirci di che genere di infamia si tratta fece per sussurrare Nicolai Parfenovic il procuratore si aciliò visibilmente no no sei finì non vi date pensiero e poi non vale la pena sporcarsi le mani mi sono già sporcato a sufficienza grazie a voi non ve lo meritate né voi né nessun altro basta signori non dirò una parola di più pronunciò queste parole molto perentoriamente Nicolai Parfenovic smise di insistere ma dagli sguardi di Polit Kirillovic intuì in un attimo che quello non aveva ancora perso le speranze non potreste perlomeno dichiarare a quanto ammontava la somma in vostro possesso quando vi recaste in casa del signor Perciotin cioè quanti rubli erano per l'esattezza non posso dichiarare neanche questo pare che il signor Perciotin abbiate parlato di 3.000 rubli dicendo che li avevate ricevuti dalla signora Cioclacova è così può darsi che gli abbia detto una cosa del genere basta signori non dirò quanti soldi erano in tal caso descriveteci per cortesia come siete arrivato qui e tutto quello che avete fatto una volta arrivato ma a questo proposito potete interrogare tutti quelli che erano presenti ma del resto posso raccontarvelo pure io e infatti raccontò l'accaduto ma non staremo qui a riportarlo il suo racconto fu asciutto frettoloso non accennò nemmeno ai propri entusiasmi amorosi tuttavia riferì che aveva abbandonato la decisione di spararsi in considerazione e gli raccontava senza spiegare i vari motivi senza scendere in dettagli e nemmeno gli inquirenti lo seccarono molto questa volta era chiaro che nemmeno per loro quello era stato il punto fondamentale al momento verificheremo tutto questo ci ritorneremo nel corso degli interrogatori dei testimoni che avverranno naturalmente in vostra presenza concluse l'interrogatorio Nicolai Perfenovic adesso vogliate gentilmente appoggiare qui sul tavolo tutti gli oggetti che avete con voi e soprattutto tutto il denaro che avete al momento il denaro signori certo capisco che è necessario mi inveraviglio persino che non abbiate curiosità prima vero è che non sarei scappato da nessuna parte ma ne stavo seduto in bella vista eccoli qui i miei soldi eccoli contateli prendeteli sono tutti mi pare e gestrasse tutto il contenuto delle tasche persino gli spiccioli tirò fuori pure due monetine da venti copeche dalla tasca laterale del panciotto contarono i soldi risultarono 836 rubli e 40 copeche e questo è tutto domandò il giudice istruttore tutto poc'anzi avete detto durante la deposizione che avevate speso 300 rubli nella bottega di Plotnikov ne avevate dati 10 a Perciotin 20 al vetturino qui ne avete persi 200 poi Nicolai Perfenovic fece tutto il conto Mitia lo aiutò volentieri ricordarono e inclusero nel conto ogni copeca Nicolai Perfenovic tirò subito le somme compresi questi 800 dovevate averne 1500 all'incirca all'inizio credo di sì tagliò corto a Mitia e come mai tutti affermano che ne avevate molti di più e che lo affermino pure ma lo avevate affermato voi stesso già l'ho affermato io stesso controlleremo ancora attraverso le testimonianze delle persone che non sono state ancora interrogate dei vostri soldi non vi preoccupate verranno custoditi dove si conviene e torneranno a vostra disposizione alla fine di tutto quello che abbiamo cominciato se risulterà come dire se verrà provato che ne avete l'indiscutibile diritto beh ma adesso Nicolai Perfenovic senza di scatto e dichiarò a Mitia in tono deciso che era suo dovere e obbligo eseguire un'occuratissima e completa perquisizione degli abiti e di tutto il resto prego signori rivolterò tutte le tasche se volete e si mise per davvero a rivoltare le tasche è necessario che vi togliate i vestiti come? spogliarmi? ma che diamine ma perquisitemi così non si può così non è assolutamente possibile Dimitri Fiodorovic occorre che vi togliate i vestiti come volete si sottomise coppamente Mitia solo vi prego non qui ma dietro la tenda chi eseguirà la perquisizione? naturalmente dietro la tenda annui di colpo Nicolai Parfenovic il suo visetto aveva preso persino un'espressione di particolare solennità Sesto il procuratore mette Mitia alle strette seguì qualcosa di assolutamente inatteso e stupefacente per Mitia non avrebbe mai immaginato neanche un minuto prima che accadesse che qualcuno potesse comportarsi in quel modo con lui con Mitia Karamazov e soprattutto si verificò una situazione umiliante per lui mentre da parte degli altri c'era alterigia e disprezzo togliersi la finanziera era una cosa ancora sopportabile ma gli chiedessero di leversi anche tutto il resto e non si trattava tanto di una richiesta quanto di un ordine egli se ne rendeva perfettamente conto per orgoglio e disprezzo egli si sottomise a tutto senza dire una parola oltre a Nicolai Parfenovic dietro la tenda entrò pure il procuratore accompagnato da qualche contadino per intervenire con la forza certo pensò Mitia e forse anche per qualcos'altro e allora devo forse togliermi anche la camicia fece per domandare ma Nicolai Parfenovic non gli rispose insieme al procuratore era intento esaminare la finanziera i pantaloni il panciotto il cappello ed era evidente che entrambi erano molto attenti alla perquisizione non fanno mica tante cerimonie passò a mente a Mitia non osservano nemmeno le più elementari regole di cortesia ve lo chiedo per la seconda volta devo togliermi anche la camicia oppure no disse in tono ancora più brusco e irritato non vi preoccupate vedremo noi che cosa fare rispose Nicolai Parfenovic con un tono persino autoritario almeno così parve a Mitia nel frattempo tra il giudice istruttore e il procuratore aveva luogo un vivace consulto a mezza voce si erano rinvenute sulla finanziera soprattutto sulla falda sinistra di dietro enormi macchie di sangue rinsecchite indurite e ancora abbastanza integre eppure sui pantaloni Nicolai Parfenovic inoltre in presenza dei testimoni passò di persona le dita sul colletto i paramano e su tutte le cuciture della finanziera e dei pantaloni come per cercare qualcosa denaro ovviamente il peggio era che non nascondevano a Mitia il loro sospetto che egli avesse potuto e fosse stato capace di cucire i soldi nel vestito si comportano proprio come se fosse un ladro e non un ufficiale borbotò fra se esse si comunicavano l'un l'altro le proprie impressioni con una franchezza persino strana per esempio il segretario che pure si trovava dietro la tenda e si dava un grande affare per rendere i propri servigi attirò l'attenzione di Nicolai Parfenovic anche sul cappello che veniva testato pure quello vi ricordate lo scrivano Gridenca notò il segretario l'estate andava a prendere lo stipendio per tutta la cancelleria e quando tornò una volta dichiarò di aver perso il denaro in stato di brachezza e dove la andarono a pescare proprio dentro gli orlicini del berretto le banconote da cento erano avvoltolate a tubicino e cucite negli orli l'episodio di Gridenca l'episodio di Gridenca se lo ricordava non si introppo bene sia il giudice istruttore sia il procuratore ecco perché avevano messo da parte il cappello di Mitia e avevano deciso che quel materiale sarebbe stato esaminato seriamente in seguito come tutto il resto del vestiario permettete gridò l'improvviso Nicolai Perfenovie notando il polsino arrotolato verso l'interno della manica destra della camicia di Mitia tutto coperto di sangue permettete cos'è quello sangue sangue tagliò corto Mitia cioè quale sangue e perché la manica è rimboccata verso l'interno Mitia raccontò che si era ammacchiato il polsino di sangue mentre si affaccendava presso Grigori che lo aveva rimboccato così già a casa di Perkotin quando si era lavato le mani in casa sua ci tocca requisire anche la vostra camicia è molto importante come prova materiale Mitia avvampò e perse le staffe dovrai restare nudo allora urlò non vi preoccupate aggiusteremo la faccenda in qualche modo per il momento fate la cortesia di levarvi anche i calzini ma starete scherzando è davvero così indispensabile gli occhi di Mitia lampeggiavano non abbiamo tempo con gli scherzi replicò severamente Nicolai Perfenovie in tal caso se è necessario io prese a borbottare Mitia e poi sedutosi sul letto cominciò a sfilarsi i calzini si sentiva terribilmente a disagio tutti vestiti e lui nudo e strano a dirsi così svestito com'era egli stesso si sentiva colpevole dinanzi a loro e soprattutto egli stesso era pronto a credere di essere davvero tutto ad un tratto inferiore a loro e che quelli avessero il pieno diritto di disprezzarlo quando tutti sono svestiti non c'è tanto da vergognarsi ma quando è svestito uno solo e tutti gli altri lo guardano che vergogna gli tornava ripetutamente in mente è come nei sogni ho sognato qualche volta di trovarmi in situazioni così vergognose levarsi i calzini fu quasi una tortura per lui erano molto sporchi come tutto il resto della sua biancheria intima e adesso tutti potevano vederlo e quel che è peggio egli stesso detestava i propri piedi per tutta la vita aveva trovato mostruosi i propri alluci odiava in particolar modo la rozza e piatta unghia dell'alluce destro che si piegava all'ingiù e adesso tutti l'avrebbero visto provando una vergogna intollerabile si fece ad un tratto ancora più rude di proposito si strappò da solo la camicia di dosso non volete frugare da qualche altra parte se non ve ne vergognate no per ora non ce n'è bisogno allora devo restarmene nudo così soggiunse incollerito sì per adesso è necessario fate la cortesia di sedervi qui per adesso potete prendere la coperta dal letto e avvolgervela addosso mentre io io sistemo tutto questo tutti gli indumenti furono mostrati ai testimoni fu redatto il rapporto sulla perquisizione e finalmente Nicolai Perfenovie uscì mentre portavano dietro anche i vestiti anche Ippolit Kirillovie uscì con Mitia restarono soltanto i contadini che se ne stavano impalati in silenzio senza levargli gli occhi di dosso Mitia si era avvolto nella coperta aveva freddo gli spuntavano fuori i piedi nudi ed egli non riusciva in alcun modo a tirare in giù la coperta in modo da coprirli sembrò che Nicolai Perfenovie si assentasse a lungo straziatamente a lungo li prende per uno sbarbatello pensava Mitia dicrignando i denti è andato via anche quella carogna del procuratore certamente per disprezzo nei miei confronti fa schifo guardare un uomo nudo tuttavia Mitia immaginava che stessero esaminando i suoi vestiti da qualche parte per poi riportargeli quale fu la sua indignazione quando Nicolai Perfenovi tornò con un contadino che recava tutt'altri indumenti eccovi un vestito disse con disinvoltura evidentemente molto soddisfatto per il successo della missione è il signor Kalganov che lo ha gentilmente offerto per questa insolita circostanza insieme a una camicia pulita per voi è stata una fortuna che avesse tutto questo nel suo bagaglio quanto alla biancheria intima e ai calzini potete tenere i vostri Mitia sbottò violentemente non voglio i vestiti di un altro gridò minocciosamente restituitemi i miei non è possibile restituitemi i miei al diavolo Kalganov e i suoi vestiti al diavolo anche lui impiegarono molto tempo per convincerlo tuttavia riuscirono a calmarlo alla bella e meglio lo convinsero che i suoi vestiti in quanto sporchi di sangue dovevano essere acclusi al resto delle prove materiali in quel momento non avevano nemmeno la facoltà di restituirglieli visto e considerato l'eventuale esito del caso finalmente mitia riuscì in qualche modo a farsene una ragione e gli tacque con aria cupa e cominciò a vestirsi in tutta fretta mentre indossava quell'abito osservò soltanto che era più ricco e nuovo del suo e che egli non voleva approfittarne inoltre gli stava stretto in modo umiliante devo forse vestirmi da pagliaccio per far divertire voi lo convinsero ancora una volta che stava esagerando che il signor Kalganov era sì più alto di lui ma solo di poco e che forse ecco soltanto i pantaloni gli andavano un po' lunghetti però la finanziaria risultò davvero stretta di spalle che il diavolo vi pigli è un'impresa pure a bottonarla si mise a brontolare mitia fatemi il piacere riferite al signor Kalganov da parte mia che non sono stato io a chiedere il suo vestito ma che sono stato costretto a vestirmi da pagliaccio questo lo capisce benissimo ed è spiacente cioè non è spiacente per il vestito ma per tutta questa situazione fece per biascicare Nicolai per Fainovie me ne infischio del suo dispiacere beh dove devo andare adesso o devo continuare a starmene qui gli chiesero di tornare in quell'altra stanza mitia uscì accigliato per la stizza mentre si sforzava di non guardare nessuno con gli abiti di un'altra persona sentiva di aver toccato il fondo della degradazione persino davanti a quei contadini e a Trifon Borisovie che ogni tanto faceva capolino dalla porta per poi scomparire è venuto a sbirciare la mascherata pensò mitia si sedette al posto di prima aveva la sensazione di vivere qualcosa di assurdo un incubo gli sembrava di non essere in sé adesso che si fa inizierete a sferzarmi con le verghe non vi resta nient'altro da farmi mi pare disse a denti stretti al procuratore verso Nicolai Parfenovie non voleva nemmeno girarsi come se disdegnasse di parlare con lui ha guardato troppo minuziosamente i miei calzini ha ordinato persino il vigliacco di rivoltarli l'ha fatto di proposito per far vedere a tutti che biancheria sporca avevo indosso adesso dovremmo passare l'interrogatorio dei testimoni disse Nicolai Parfenovie come risposta alla domanda di Dmitri Fiodorovic sì certo rispose il procuratore sovra pensiero come se anche lui stesse riflettendo su qualcosa noi Dmitri Fiodorovic abbiamo fatto ciò che era il nostro potere per salvaguardare i vostri interessi proseguiva Nicolai Parfenovie ma dopo aver ricevuto il radicale rifiuto da parte vostra di chiarirci l'origine della somma della quale vi abbiamo trovato in possesso noi a questo punto che pietra è quella del vostro anello lo interruppe all'improvviso Mitia come risvegliandosi da un momento di intensa riflessione e indicando con il dito uno dei tre grossi anelli che ornavano la manina destra di Nicolai Parfenovie l'anello ripetè stupito Nicolai Parfenovie sì quello là al medio quella con le venature che pietra è insiste Mitia capricciosamente come un bambino testardo è un topazio color fumo rispose Nicolai Parfenovie se volete dargli un'occhiata me lo tolgo no no non lo levate gridò velocemente Mitia tornando repentinamente in sé e stizzito contro se stesso non ve lo togliete non ce n'è bisogno al diavolo signori avete insozzato la mia anima pensate davvero che se avessi ammazzato mio padre ve lo avrei celato che avrei tergiversato mentito giocato a rimpiattino no Dmitry Karamazov non è tipo da comportarsi così e non lo avrebbe mai sopportato se davvero fossi stato colpevole vi giuro che non avrei mai aspettato il vostro arrivo e il sorgere del sole come avevo intenzione di fare all'inizio ma mi sarei fatto fuori prima senza aspettare l'alba adesso lo sento questo in vent'anni di vita non ho imparato tanto quanto in questa maledetta notte avrei mai potuto stare così stare così qui questa notte in questo istante seduto con voi avrei mai potuto parlare in questo modo muovermi in questo modo guardare così voi e il resto del mondo se davvero fossi stato un parricida quando persino un omicidio casuale come quello di Grigori non mi ha mai dato pace per tutta la notte e non per paura non certo per paura della vostra condanna che vergogna e voi vorreste che a schernitori come voi che non vedete nulla e non credete in nulla a delle talpe cieche e a schernitori quali voi siete io mi metto a rivelare e a raccontare un'altra meschinità che ho compiuto una nuova infamia anche se questo dovesse salvarmi dalla vostra imputazione meglio i lavori forzati la persona che ha aperto la porta che conduceva a mio padre ed è entrato da quella porta quella persona lo ha ucciso e lo ha derubato su chi sia mi arrovello e tormento ma non è stato Dmitri Carmazzo sappiatelo ecco tutto quello che posso dirvi basta così lasciatemi in pace deportatemi condannatemi ma non mi seccate più non dirò più nulla chiamate i vostri testimoni Mitia pronunciò il suo improvvisato monologo come se avesse deciso di tacere definitivamente da quel momento in poi il procuratore lo aveva osservato per tutto il tempo ma solo quando fece silenzio con un'espressione estremamente fredda e placida disse come se fosse la cosa più normale del mondo ecco proprio riguardo a quella porta aperta che avete appena menzionato molto a proposito possiamo ora informarvi della testimonianza oltremodo interessante e di estrema importanza per voi e per noi del vecchio Grigori Vasilievic che voi avete ferito dopo essersi ripreso egli ha risposto con lucidità e fermezza alle nostre domande e ha detto che dopo essere uscito sul terrazzino d'ingresso e aver udito il rumore in giardino egli aveva deciso di entrare in giardino attraverso la porticina aperta entrando nel giardino ancora prima di notare voi che correvate al buio come ci avete già riferito per allontanarvi dalla finestra spalancata attraverso la quale avevate visto il vostro genitore egli Grigori gettando uno sguardo a sinistra e notando in effetti quella finestra aperta notò nel contempo molto più vicino a sé la porta spalancata quella stessa porta che voi sostenete sia rimasta chiusa per tutto il tempo che vi siete trattenuto in giardino non vi nascondo che lo stesso Grigori Vasilievici è fermamente convinto e così testimonia che sareste stato voi a fuggire attraverso quella porta anche se ovviamente egli non vi ha visto con i propri occhi mentre fuggivate ma vi ha intravisto solo a una certa distanza in mezzo al giardino mentre correvate verso lo steccato Mitia era saltato in piedi già a metà di quel discorso è un'assurdità strillò frenetico è uno spudolato inganno non può aver visto la porta aperta perché essa allora era chiusa mente ritengo mio dovere ripetervi che la sua testimonianza è decisa non ha il minimo dubbio è sicuro di quello che dice gli abbiamo ripetuto la domanda più volte proprio così gli ho ripetuto la domanda diverse volte confermò con calore anche Nicolai Parfenovie ma è falso è falso o è una calunnia a mio danno oppure l'allucinazione di un pazzo continuava a urlare Mitia niente di più facile che delirasse per il sangue per la ferita deve averlo immaginato quando ha ripreso conoscenza ma sì quello delira il fatto è che ha notato la porta aperta non già quando si è ripreso dalla botta ma prima di riceverla mentre entrava in giardino dopo essere uscito dalla dipendenza è falso è falso questo non può essere mi calunnia per dispetto non può aver visto io non sono fuggito dalla porta ci affannava a dire Mitia il procuratore si rivolse a Nicolai Parfenovie e gli disse con aria grave mostrate pure riconoscete questo oggetto di punto in bianco Nicolai Parfenovie poggiò sul tavolo una voluminosa busta di carta spessa di formato da ufficio sulla quale erano ancora impressi tre sigilli ma la busta era vuota ed era stata lacerata da un lato Mitia stralunò gli occhi nel vederla questa è questa dunque la busta di mio padre mormorò quella che conteneva tremila rubli e se la scritta permettete alla mia gallinella ecco tremila esclamò tremila vedete certo che vediamo ma non abbiamo trovato i soldi era vuota era stata gettata a terra vicino al letto dietro al paravento per qualche secondo Mitia restò come impietrito signori esmerdiakov gridò all'improvviso con tutta la forza che aveva è stato lui ad ammazzare lui a derubare soltanto lui conosceva il nascondiglio di quella busta è stato lui adesso è chiaro ma sapevate anche voi dell'esistenza di quella busta e del fatto che veniva conservata sotto il cuscino non l'ho mai saputo non l'avevo mai vista questa è la prima volta che la vedo prima ne avevo sentito parlare solo da smerdiakov solo lui sapeva dove la teneva nascosta il vecchio io non lo sapevo diceva Mitia affannato eppure voi stesso poco fa avete testimoniato che la busta il defunto la teneva sotto il cuscino avete detto proprio che si trovava sotto il cuscino dunque sapevate dove si trovava risulta dal verbale confermò Nicolai per Fenovi è un'assurdità non ha senso io non sapevo affatto dicendo che fosse sotto il cuscino anzi può essere che non si trovasse affatto sotto il cuscino ho tirato ad indovinare dicendo che fosse sotto il cuscino che cosa dice smerdiakov gli avete domandato dove si trovava la lettera che cosa dice smerdiakov questo è l'importante io ho calunniato me stesso mi è scappato senza pensare che si trovasse sotto il cuscino mentre voi adesso ma sapete alle volte capita di dire le cose per caso ed ecco che ti ritrovi a mentire ma lo sapeva soltanto smerdiakov soltanto lui smerdiakov e nessun altro non lo aveva rivelato neanche a me dove si trovava ma è stato lui è stato lui è stato sicuramente lui ad uccidere adesso mi è chiaro come il sole gridava con frenesia crescente mitia ripetendosi in maniera incoerente sempre più esasperato e accanito dovete capirlo questo e arrestarlo presto al più presto è stato proprio lui a uccidere mentre io stavo fuggendo e Grigoli giaceva privo di conoscenza adesso è chiaro ha fatto i segnali e mio padre li ha aperto poiché soltanto lui conosceva quei segnali e senza segnali mio padre non avrebbe aperto a nessuno ma dimenticate ancora una volta la circostanza osservò il procuratore parlando sempre con la stessa discrezione ma con aria quasi trionfante che non c'era bisogno di dare i segnali se la porta era già aperta quando voi eravate lì quando vi trovavate nel giardino la porta la porta mormorava Mitia e fissò il procuratore senza dire una parola poi si lasciò cadere sulla sedia tutti tacquero sì la porta è un incubo Dio è contro di me esclamò lui guardando davanti a sé completamente inebetito ecco vedete preferì il procuratore con sussiego e giudicate da voi Dmitri Piotrovic da una parte questa testimonianza della porta aperta dalla quale siete fuggito schiaccia voi e noi dall'altra l'incomprensibile tenace e quasi esasperata reticenza da parte vostra sulla provenienza di quei soldi che sono comparsi all'improvviso nelle vostre mani quando soltanto tre ore prima per vostra stessa missione avevate pignorato le vostre pistole in cambio di dieci miseri rubli considerando tutto questo decidete voi a che cosa dovremmo credere noi e su quali dati dovremmo basarci e non ci accusate di essere dei freddi cinici e degli schernitori che non sono in grado di credere ai nobili slanci del vostro cuore cercate piuttosto di compenetrarvi nella nostra posizione Mitea si trovava in uno stato di indicibile agitazione era impallidito va bene scramò all'improvviso vi svelerò il mio segreto vi svelerò da dove ho preso quei soldi vi svelerò l'infamia per non essere costretto in seguito ad accusare voi o me stesso e credete Mitri Fiodorovic intervenne Nicolai Parfenovie con una nota quasi di gioiosa commozione nella sua vocetta che qualsiasi sincera e completa confessione che vogliate rendere in questo momento potrebbe in futuro contribuire enormemente ad alleggerire il vostro destino e oltre a ciò persino ma il procuratore gli ha detto un colpetto da sotto il tavolo e quell'altro si fermò in tempo Mitria a dire il vero non lo stava nemmeno ascoltando il grande segreto di Mitria viene fischiato signori esordì con la stessa agitazione quei soldi io voglio confessarlo quei soldi erano miei le facce del procuratore e del giudice istruttore si fecero lunghe e lunghe non era quello che si aspettavano di sentire come sarebbe vostri belbetò Nicolai per Fenovie quando solo alle 5 del pomeriggio secondo la vostra stessa ammissione al diavolo le 5 del pomeriggio è la mia stessa ammissione non si tratta di questo adesso quei soldi erano miei non miei cioè ma rubati rubati da me ed erano 1500 rubli e li avevo con me li ho tenuti sempre con me ma dove li avevate presi dal collo signori dal collo ecco proprio da questo collo li tenevo qui al collo cuciti in uno straccetto appesi al collo da molto tempo già da un mese li portavo al collo a ricordo della mia onta e la mia infamia ma come ve ne siete appropriato intendete dire a chi li avete rubati parlate chiaro adesso sì comunque ritengo di averli rubati ma se volete me ne sono appropriato ma per me li ho rubati e ieri sera li ho decisamente rubati ieri sera ma se avete appena detto che era già un mese che ve li eravate procurati sì ma non a mio padre non a mio padre non vi agitate non li ho rubati a mio padre ma a lei fatemi raccontare e non mi interrompete è davvero penoso vedete un mese fa mi manda a chiamare Katerina Ivanovna Versovceva la mia ex fidanzata la conoscete come no certamente so che la conoscete un'anima nobilissima la più nobile fra le nobili ma che nutre un grande odio nei miei confronti già da molto tempo oh da molto da molto un odio meritato meritato Katerina Ivanovna chiese conferma al giudice istruttore stupito anche il procuratore lo guardava con tanto d'occhi oh non pronunciate il suo nome in vano io sono un mascalzone a coinvolgerla in questo modo sì mi sono accorto che mi odiava da un pezzo dalla prima volta da quella volta a casa mia quando eravamo là basta basta non siete degni nemmeno di saperlo questo non c'è assolutamente bisogno occorre soltanto che vi dica che ella mi mandò a chiamare un mese fa e mi consegnò 3000 rubli perché io li spedissi a sua sorella e a una sua parente a Mosca come se non avesse potuto spedirli lei stessa io invece mi trovavo proprio in quell'ora fatale della mia vita in cui beh per farla breve in cui mi ero appena innamorato di un'altra di lei di quella di adesso quella che tenete al piano di sotto adesso Grushenka allora la portai di corsa qui a Macroe e scialacquamo qui in due giorni la metà di quei maledetti 3000 rubli mentre il resto lo trattenne per me ecco i rimanenti 1500 rubli che mi ero trattenuto li portavo sempre addosso al collo come un amuleto ma ieri ho disfatto l'involto e li ho scialacquati il resto di 800 rubli adesso è nelle vostre mani Nicolai Perfenovie quello è il resto dei 1500 rubli che avevo ieri permettete ma come può essere qui un mese fa avevate scialacquato 3000 e non 1500 rubli lo sanno tutti questo chi può saperlo chi li ha contati a chi avrei dato il permesso di contarli di grazia voi stesso avete detto a tutti che qui avevate scialacquato allora 3000 rubli esatti esatti è vero l'ho detto l'ho detto a tutta la città e tutta la città lo andava dicendo e tutti hanno calcolato così e anche qui a Mocroe hanno calcolato 3000 rubli comunque io non ne avevo spesi tre ma 1500 e i rimanenti 1500 li avevo cuciti nell'amuleto ecco come stanno le cose signori ecco da dove ha preso i soldi di ieri ma è quasi prodigioso balbetto Nicolai Perfenovie permettete una domanda disse infine il procuratore non avete comunicato a nessuno questa circostanza in precedenza cioè che allora un mese fa vi erano rimasti 1500 di quei 3000 rubli e che li portavate addosso non l'ho detto a nessuno questo è strano intendete dire proprio a nessuno nessuno a nessuno a nessuno nessuno ma qual era il motivo di questa reticenza che cosa vi ha indotto a farne un tale segreto sarò più chiaro con voi sarò più chiaro voi ci avete finalmente comunicato il vostro segreto tanto infame secondo quanto voi dite ebbene in sostanza cioè in senso relativo questa azione vale a dire l'appropriazione di 3000 rubli altrui appropriazione senza dubbio temporanea questa azione dicevo a mio parere almeno è un'azione estremamente lieve e per nulla infame se teniamo conto inoltre del vostro carattere ammettiamo pure che sia un'azione estremamente disdicevole sono d'accordo ma solo disdicevole non infame cioè voglio dire che molte persone in quest'ultimo mese avevano già intuito la faccenda di quei 3000 rubli che la signorina Ferciocchva vi aveva consegnato e che voi avevate speso anche senza la vostra confessione anche a me è capitato di sentire questa leggenda anche Mikhail Makarovi l'ha sentita per esempio tanto che adesso non è più tanto una leggenda quanto un pettegolezzo che ha fatto il giro dell'intera città per di più c'è giunta voce che anche voi se non erro avete confessato a qualcuno questo misfatto cioè che avevate preso quei soldi dalla signorina Ferciocchva ecco perché mi meraviglia tanto che abbiate fatto tanto mistero fino ad adesso fino a un minuto fa su quei 1500 rubli che a quanto dite avete messo da parte collegando a questo vostro segreto addirittura un alone di orrore è incredibile che un simile segreto sia stato davvero tanto penoso da confessare visto che avete appena gridato che avreste preferito la deportazione piuttosto che confessarlo il procuratore Tacque si era infervorato non aveva celato la propria irritazione quasi rabbia e aveva dato sfogo a quanto si era accumulato in lui addirittura senza preoccuparsi dello stile e quindi in maniera incoerente e quasi confusa l'infamia non era in quei 1500 rubli ma nel fatto che li avessi messi da parte come resto dei 3000 disse Mitia con aria decisa e allora il procuratore sogginò stizzito che cosa c'è di tanto infame secondo voi nell'aver messo da parte metà di quei 3000 rubli che avevate disdicevolmente o se volete vergognosamente sottratto quello che conta è che vi eravate appropriato dei 3000 rubli e non il modo in cui ne avete disposto a proposito come mai ne avevate disposto in quella maniera cioè perché ne avevate messo da parte la metà perché a che scopo avete agito così ce lo potete spiegare oh signori il punto è proprio questo lo scopo esclamò Mitia li ho messi da parte per codardia cioè per calcolo già che il calcolo in questo caso equivale a codardia è questa codardia e questa codardia è durata un mese intero non capisco mi meraviglio di voi ma cercherò di spiegare forse è davvero incomprensibile quello che dico vedete seguitemi con l'attenzione io mi appropio di 3000 rubli affidati al mio onore e li spendo per far baldoria li spendo tutti il giorno dopo vado da lei e dico Katia sono colpevole ho scialacquato i tuoi 3000 rubli e allora è giusto comportarsi così? no non è giusto è disonesto e pusillanime una bestia una persona che perde il controllo di sé fino a scendere al livello di una bestia può comportarsi così vero? eppure non sono un ladro vero? non sono propriamente un ladro ne converrete ho sperperato quei soldi ma non li ho rubati adesso c'è la seconda alternativa più vantaggiosa seguitemi altrimenti perderò il filo un'altra volta la testa mi gira così tanto ma passiamo alla seconda alternativa scialacquo solo 1500 di quei 3000 rubli vale a dire la metà il giorno dopo vado da lei e le riporto quella metà Katia prendi questa metà dal farabutto e dal vile mascalzone che sono perché l'altra l'ho scialacquata e scialacquerei anche questa preservami dal peccato che ne dite di questa seconda alternativa sarei una bestia e un codardo quello che volete ma non sarei più un ladro non un ladro in maniera definitiva già che se fossi stato un ladro probabilmente non avrei riportato indietro il resto ma mi sarei appropriato anche di quello in quel caso lei si rende conto che se ho riportato subito la metà di quei soldi allora restituirò anche gli altri quelli scialacquati cioè e che sarò capace di cercare tutta la vita di mettermi a lavorare ma troverò la somma e la restituirò quindi sono un mascalzone non un ladro non un ladro quello che volete ma non un ladro ammettiamo pure che ci sia qualche differenza sorrise freddamente procuratore rimane tuttavia strano che voi vediate in questo una differenza così fatale sì vedo una differenza così fatale ogni uomo può comportarsi da mascalzone e forse lo è davvero ma certo non tutti possono essere ladri solo gli arci mascalzoni possono esserlo ma in queste sottigliezze non sono in grado ma un ladro è più abietto di un mascalzone di questo ne sono convinto ascoltate io porto addosso quei soldi per un mese intero domani stesso potrei decidermi a restituirli e quindi non sono più un mascalzone ma non riesco a decidermi anche se tento di decidermi ogni giorno anche se ogni giorno mi pungolo deciditi deciditi mascalzone eppure per un mese intero non riesco a decidermi ecco come stanno le cose ma è giusto secondo voi è giusto certo che non è giusto questo lo posso capire benissimo e su questo non discuto rispose il procuratore con il suo tono riservato ma lasciamo perdere le discussioni su queste sottigliezze e queste differenze se solo foste così gentile da ritornare al punto e il punto è che non ci avete ancora chiarito quello che vi abbiamo domandato per quale motivo avete fatto quella divisione dei 3000 rubli cioè ne avete scialacquati una metà e nascosta un'altra qual è l'esatto motivo che vi ha spinto a nasconderla per quale scopo volevate utilizzare quei 1500 rubli messi da parte insisto su questa domanda Dmitri Piodrovic naturalmente gridò Mitia dandosi un colpetto sulla fronte perdonate vi sto tormentando e non vi spiego l'essenziale altrimenti avreste capito in un batter d'occhio perché proprio nello scopo e in quello scopo si annida l'infamia vedete qui si tratta ancora una volta del vecchio del defunto non faceva che molestare a Grafen Aleksandrovna e io ero geloso allora pensavo che lei fosse indecisa tra me e lui ogni giorno pensavo supponiamo che si decida all'improvviso supponiamo che smetta di tormentarmi e che mi dica amo te non lui conducimi all'altro capo del mondo io possedevo soltanto due monete da venti copeche come avrei fatto a portarla via che cosa avrei fatto sarei stato perduto allora non la conoscevo e non capivo pensavo che le occorresse denaro e che non avrebbe perdonato la mia miseria e così sottrassi perfidamente la metà di quei tremila rubli e la cucii con un ago a mente fredda la cucii premeditatamente la cucii prima di ubriacarmi e poi dopo averla cucita partì ad ubriacarmi con la rimanente metà no signori questa è vigliaccheria avete capito adesso il procuratore scoppiò in una fragolosa risata il giudice istruttore lo seguì a ruota per conto mio è stato persino assennato e morale da parte vostra controllarvi e non spendere tutto ridacchiava Nicolai Parfenovie che cosa c'è di male in quello che avete fatto c'è di male che ho rubato ecco cosa oh mio dio voi mi terrorizzate con la vostra incomprensione per tutto il tempo che ho portato quei 1500 rubli al collo cuciti al petto ogni giorno ogni ora mi ripetevo sei un ladro sei un ladro ecco perché mi sono abbruttito in questo mese ecco perché ho fatto a botte in trattoria ecco perché ho picchiato mio padre perché mi sentiva un ladro persino ad agli oscia mio fratello non mi sono deciso e non ho avuto il coraggio di rivelare il segreto di quei 1500 rubli ecco fino a che punto mi sentivo un mascalzone e un radruncolo ma sappiate che per tutto il tempo che ho portato quei soldi su di me ogni giorno ogni ora della mia vita dicevo no Dmitri Fiodrovich tu forse non sei ancora un ladro perché proprio per il fatto che domani potresti andare a restituire a Katia quei 1500 rubli ed ecco che soltanto ieri mi sono deciso a strapparmi il mio amuleto dal collo mentre mi recavo a casa di Perciotin dopo aver visto Fenia fino a quel momento non ero riuscito a decidermi e soltanto nel momento in cui l'ho strappato io sono diventato un ladro definitivamente e irrevocabilmente un ladro e un disonesto per tutta la vita perché perché insieme al mio amuleto ho distrutto anche il mio sogno di andare da Katia e dirle sono un mascalzone ma non un ladro capite adesso capite perché vi siete deciso proprio ieri lo interruppe Nicolai per Fenovie perché è assurdo che me lo domandiate perché avevo condannato a morte me stesso alle 5 del mattino proprio qui all'alba ormai fa lo stesso morire da mascalzone o da uomo d'onore pensavo ma vedo che non è così e la differenza comunque c'è mi credete signori se vi dico che ciò che mi tormentava di più questa notte non era il pensiero di aver ucciso il vecchio servo e quindi di essere mandato in Siberia proprio quando si coronava il mio amore il paradiso mi riapriva le sue porte oh questo mi tormentava sì ma non tanto non tanto quanto quella maledetta consapevolezza di aver strappato infine quei maledetti soldi dal petto e di averli spesi diventando così un ladro in piena regola signori ve lo ripeto con il cuore sanguinante ho imparato molto questa notte ho imparato che non soltanto vivere da mascalzone è impossibile ma è impossibile pure morire da mascalzone no signori bisogna morire con onore mi tera pallido il suo viso aveva un'espressione esausta e sofferente nonostante gli fosse intensamente infervorato comincio a comprendervi Dmitri Piotrovic disse il procuratore lentamente con voce sua dente e persino compassionevole ma se mi permettete questa è solo una questione di nervi dei vostri nervi malati a parer mio perché per liberarvi da tali tortura durante quasi un intero mese non siete andato a restituire quei 1500 rubli alla persona che ve li aveva affidati e dopo esservi spiegato con lei perché in considerazione della vostra condizione di allora tanto orribile secondo la vostra descrizione perché non avete adottato la soluzione più naturale che viene alla mente cioè confessarle con onore ai vostri errori e chiederle di prestarvi la somma necessaria alle vostre spese che ella nella magnanimità del suo cuore e vedendo la vostra disperazione non vi avrebbe sicuramente rifiutato soprattutto a fronte di una cambiale o anche di quella garanzia che avete proposto al mercante Samsonov e alla signora cioclacove considerate ancora valida quella garanzia vero? mi tiavva un po' di colpo certo non potete considerarmi mascalzone fino a questo punto non può essere che stiate parlando seriamente disse con aria indignata guardando il procuratore negli occhi quasi non credendo a quello che gli aveva sentito dire vi assicuro che parlo seriamente perché pensate che non sia serio? si stupì a sua volta il procuratore come sarebbe vile signori ma lo sapete che mi state torturando lasciate che vi dica tutto e così sia vi confesserò tutta la mia malvagità infernale proprio per farvi provare vergogna e voi stessi vi meraviglierete di vedere fino a quali abissi di ignominia può arrivare una combinazione di sentimenti umani sappiate che io stesso ho pensato alla soluzione della quale avete orora parlato procuratore sì signori anche a me è passato per la mente un simile pensiero in questo maledetto mese tanto che quasi avevo deciso di recarmi da lei a tanto era arrivata la mia aviltà ma andare da lei confessarle il mio tradimento e per quello stesso tradimento per portare a termine quel tradimento per le spese che dovevo affrontare per quel tradimento chiedere i soldi proprio a lei proprio a Katia chiederli capite? chiederli e poi correre subito dall'altra dalla rivale che la odiava e l'avevo altreggiata di grazia siete forse impazzito procuratore? impazzito o no nella foga non ho tenuto conto di quella gelosia femminile ammesso che in questo caso si tratti davvero di gelosia come voi affermate sì forse c'è qualcosa del genere e il procuratore sorrise ma sarebbe stata una tale porcheria e Mithia sferrò un pugno sul tavolo una cosa così fetida non so neanche come dirlo ma sapete che avrebbe anche potuto darmili quei soldi e me li avrebbe dati ma li avrebbe dati sicuramente per vendicarsi di me li avrebbe dati per la volutà della vendetta per il disprezzo verso di me li avrebbe dati perché anche lei è un'anima infernale è una donna dall'ira formidabile e io avrei preso quei soldi li avrei presi li avrei presi e allora per tutta la vita oh dio mio scusate signori sto gridando tanto perché ho avuto questo pensiero molto di recente solo due giorni fa proprio quando ho passato la notte con gli gavi e poi anche ieri sì anche ieri e per tutta la giornata lo ricordo bene sino a quando non è accaduto accaduto cosa intervenne Nicolai Perfeno vi è incuriosito ma Mithia non aveva sentito vi ho fatto una terribile confessione concluse cupamente cercate di apprezzarla signori e non solo non solo dovete apprezzarla ma rispettarla e se non la rispetterete se anche questo lascerà le vostre anime insensibili allora vorrei dire che non avrete rispetto nemmeno per me signori ecco quello che vi dico e io morirò di vergogna per essermi confidato con persone come voi oh mi sparerò un colpo sì vedo già che voi non mi credete ma non vorrete mettere agli atti pure questo gridò ad un tratto spaventato sì scriveremo quello che avete appena detto Nicolai Perfeno vi è lo guardava stupito cioè che fino all'ultimo vi eravate proposto di andare dalla signorina Ferciovceva per chiederle quella somma vi assicuro che questa è una dichiarazione molto importante per noi Mitri Pjodorovic cioè per il caso nel complesso e soprattutto per voi soprattutto per voi è importante abbiate pietà signori disse Mitri aggiungendo le mani almeno questo non scrivetelo abbiate un po' di pudore io ho lacerato in due diciamo così la mia anima davanti a voi e voi cogliete l'occasione per rimestare con le dita nelle ferite di entrambe queste due metà oddio mio disperato si coprì il volto con le mani non dovete preoccuparvi tanto Mitri Pjodorovic concluse il procuratore abbiamo preso nota di tutto poi lo rileggeremo voi lo ascolterete e i punti sui quali non sarete d'accordo noi li cambieremo come voi vorrete ma adesso vi ripeto una piccola domanda per la terza volta è proprio vero che assolutamente nessuno ma proprio nessuno vi ha sentito parlare di quel denaro che avevate cucito in quell'amuleto questo devo dirvelo è quasi impossibile da credere nessuno nessuno ve l'ho già detto altrimenti non avete capito nulla lasciatemi in pace come volete ma questo fatto dovrà pure trovare una spiegazione e ci farà un bel po' di tempo per farlo ma per adesso considerate questo disponiamo di decine di testimonianze secondo le quali voi stesso avete sparso la voce e persino gridato ai 4 venti dei 3.000 rubli che avevate sperperato 3.000 non 1.500 e quando ieri siete entrato in possesso di quel denaro avete fatto intendere a molti che anche questa volta avevate 3.000 rubli con voi non decine ma centinaia di testimonianze avete a disposizione 200 testimonianze mi avranno sentito 200 persone mille persone mi avranno sentito esclamò mitia ecco vedete tutti tutti sono pronti a testimoniarlo e la parola tutti significerà pure qualche cosa non significa nulla mentivo e tutti si sono messi a mentire dietro di me ma per quale motivo avevate tanto bisogno di mentire come lo spiegate lo sa il diavolo per darmi delle arie forse così per far capire che avevo sciaracquato un mucchio di soldi forse per dimenticare quei soldi cuciti nell'amuleto sì proprio per questo al diavolo quante volte ancora mi ripetete la stessa domanda ho mentito e naturalmente una volta che avevo mentito non avevo voglia di rimangiarmi la parola per quale motivo può mentire un uomo è molto difficile stabilire Dmitri Fiodorovic per quale motivo può mentire un uomo disse il procuratore con aria grave ditemi comunque era molto voluminoso quell'amuleto come lo chiamate che portavate appeso al collo no era piccolo di che misura più o meno un biglietto da 100 rubli piegato in due quella è la misura fareste meglio a mostrarci i resti li avete da qualche parte suppongo al diavolo ma che sciocchezza non so dove siano ma scusate dove e quando lo avete levato dal collo voi stesso infatti avete detto che non siete passato da casa mentre andavo da Fania a casa di Perciotin per la strada mi strappai l'amuleto del collo e tirai fuori i soldi al buio e che mi serviva una candela ho fatto in un attimo con un dito senza forbici per la strada in piazza mi pare ma a chi servivano le forbici era uno straccio vecchio ha ceduto in un attimo dove lo avete messo poi ha buttato la stesso dove esattamente là nella piazza stessa in piazza vi dico lo sa il diavolo in quale punto esattamente della piazza ma a che vi serve saperlo è di estrema importanza Dimitri Piodorovic sono prove materiali a vostro favore come fate a non capirlo chi vi ha aiutato a cucirlo un mese fa nessuno mi ha aiutato l'ho cucito io stesso voi sapete cucire un soldato deve saper cucire e poi non ci vuole una particolare abilità dove avete preso il materiale cioè quello straccio nel quale avete cucito il denaro ma vi state prendendo gioco di me niente affatto e poi non siamo affatto in vena di scherzi Dimitri Piodorovic non ricordo dove presi lo straccio da qualche parte vorreste dire che non vi ricordate una circostanza come questa quanto il vero Dio non lo ricordo forse l'ho strappato da qualche capo di biancheria è molto interessante potremmo cercare domani nel vostro appartamento quel capo una camicia forse dalla quale avete strappato quel pezzo di che materiale era panno o tela ma che diavolo volete che ne sappia aspettate credo di non averlo strappato da nessuna parte era un pezzo di percal credo di averlo cucito dentro una cuffietta della mia padrona di casa in una cuffietta della padrona di casa sì gliel'ho presa come avete fatto a prendergiela vedete ricordo che una volta presi per davvero quella cuffietta per usarla come straccio forse per pulire un pennino lo presi senza dire niente a nessuno dal momento che quello straccetto non valeva nulla erano rimasti dei brandelli nella mia camera e così presi i 1500 rubli e li cucii là dentro credo di averli cuciti proprio in quello straccio uno straccio liso di percal lavato migliaia di volte e questo lo ricordate con sicurezza? non so se con sicurezza mi sembra di sì ma accidenti che importanza ha tutto questo? in tal caso la vostra padrona di casa potrebbe perlomeno ricordare che l'è scomparso quell'indumento ma niente affatto non se ne è neppure accorta uno straccio vecchio vi dico uno straccio vecchio che non vale il becco di un quattrino e l'ago il filo da dove li avete presi? basta con queste domande non voglio più rispondere basta si alterò infine Mitia ed è pure strano che abbiate dimenticato del tutto in quale punto della piazza gettaste quell'amuleto allora date ordine che spazzino la piazza forse lo troverete disse Mitia ridacchiando basta signori basta decise con voce estenuata vedo chiaramente che non mi avete creduto non avete creduto a una sola delle mie parole la colpa è mia non vostra non avrei dovuto cacciarmi in questi discorsi perché? perché mi sono così degradato confessandovi il mio segreto per voi è uno scherzo lo leggo nei vostri occhi siete stato voi a condurmi a questo procuratore cantate un inno di trionfo a voi stesso se potete che siate maledetti aguzzini e gli abbassò il capo e si coprì il volto con le mani il procuratore il giudice istruttore tacevano un minuto dopo sollevò la testa e li guardò con uno sguardo svuotato il suo viso ormai esprimeva la disperazione più cupa e inconsolabile egli se ne stava seduto in silenzio quasi inebetito intanto occorreva concludere la faccenda dovevano immediatamente dare inizio agli interrogatori dei testimoni erano già le otto di mattina avevano spento da un pezzo le candele michael makarovie e kalganov che non avevano fatto altro che entrare ed uscire dalla stanza per tutta la durata dell'interrogatorio adesso erano usciti tutti e due anche il procuratore e il giudice istruttore avevano un'aria esausta era una mattina grigia il cielo era coperto di nuvole e pioveva di rotto mitia guardava fuori dalla finestra senza pensare a nulla posso dare un'occhiata fuori dalla finestra domandò bruciapelo rivolto a nicolai parfenovie fate pure replicò quello mitia si alzò e si accostò alla finestra la pioggia sferzava i piccoli vetri verdognoli dalle finestre di sotto si intravedeva la strada fangosa e più in là attraverso la foschia della pioggia le file di misere cadenti isbe annerite che nella pioggia sembravano ancora più misere e annerite mitia si ricordò di febo dai riccioli d'oro e di come aveva progettato di spararsi al suo primo raggio forse con una mattinata così sarebbe stato anche meglio ridacchiò all'improvviso e di colpo abbassando il braccio si rivolse ai suoi aguzzini signori esclamò mi rendo conto di essere perduto ma lei ditemi che ne sarà di lei vi supplico non sarà tracinata anche lei nella mia rovina lei è innocente ieri non era in sé quando gridava di essere colpevole di tutto ella non è colpevole di nulla di nulla sono stato in pena per lei tutta la notte mentre ero seduto qui con voi non sarebbe possibile non potreste dirmi che cosa le farete adesso a questo proposito potete star tranquillo Dmitri Fiodorovic rispose immediatamente il procuratore con visibile fretta per il momento non abbiamo alcuna ragione particolare per arrecare disturbo alla persona che vi sta tanto a cuore spero che lo stesso si possa dire anche nelle fasi successive del caso anzi a questo riguardo faremo tutto quel che è il nostro potere perciò state tranquillo signori vi ringrazio sapevo che nonostante tutto siete persone oneste e giuste a dispetto di qualunque cosa mi avete tolto un peso dal cuore allora che cosa dobbiamo fare adesso sono pronto sì ecco occorre affrettarsi bisogna passare all'interrogatorio dei testimoni senza porre tempo in mezzo tutto questo deve assolutamente svolgersi in vostra presenza non sarebbe meglio bere un tè prima lo interruppe Nicolai Parfenovie mi pare che ce lo siamo meritato decisero che se il tè fosse stato pronto al piano di sotto considerato il fatto che Michael Macarovie era sicuramente sceso giù a farsi un goccino di tè allora ne avrebbero bevuto un bicchiere per poi subito continuare e ancora continuare per bere un tè in tranquillità e fare uno spuntino invece avrebbero aspettato un momento di maggiore libertà dal momento che il tè era davvero pronto fecero in fretta a portarlo anche di sopra Mitia inizialmente rifiutò il bicchiere che gli aveva gentilmente offerto Nicolai Parfenovie ma poi fu lui stesso a chiederlo e lo beve con avidità egli aveva un aspetto così esausto da far persino meraviglia che effetto mai poteva avere una sola notte di Baldoria seppur ricca di emozioni così intense su un uomo dotato di una forza erculea come la sua eppure egli stesso si accorgeva di avere a malapena la forza di sedersi e di tanto in tanto aveva l'impressione che tutti gli oggetti cominciassero a muoversi e girare per la stanza ci manca poco e mi metto a delirare pensò fra sé e sé le deposizioni dei testimoni la creatura l'interrogatorio dei testimoni ebbe inizio ma non porteremo avanti il nostro racconto nella maniera dettagliata in cui l'abbiamo condotto sino a questo momento quindi non ci soffermeremo a descrivere il modo in cui Nicolai Parfenović ammoniva ciascun testimone convocato a rendere la propria deposizione secondo verità e coscienza avvertendo che avrebbe dovuto ripetere quella stessa deposizione in seguito sotto giuramento ad ogni testimone alla fine si richiedeva di firmare il verbale della propria deposizione e così via noteremo soltanto che il punto principale sul quale si concentrava tutta l'attenzione degli inquirenti era proprio la questione dei 3.000 rubli e più esattamente erano 3.000 o 1.500 la prima volta cioè durante la prima baldoria di Dmitri Fiodorovic lì a Mokroe un mese addietro erano 3.000 o 1.500 il giorno prima cioè al secondo festino di Dmitri Fiodorovic ahimè tutte le testimonianze tutta e nessuna esclusa risultarono contro mitia neanche una a suo favore mentre alcuni testimoni introdussero persino nuovi elementi addirittura schiaccianti che contraddicevano la deposizione di lui il primo ad essere interrogato fu Trifon Brissier egli si presentò davanti ai giudici senza il minimo timore al contrario con un'aria di rigida e severa indignazione contro l'imputato che gli conferì indubbiamente un'aria di estrema fidabilità e dignità parlava poco con riservo aspettava che gli venissero poste le domande rispondeva con precisione e ponderatezza dichiara con fermezza e senza la minima eccitazione che un mese addietro la somma spesa non poteva essere stata inferiore ai 3000 rubli che tutti i contadini del luogo avrebbero confermato di aver sentito parlare di 3000 rubli dallo stesso Mitri Fiodorovic solo con le zigane gettò via un mucchio di soldi oserei dire che ne buttò via un migliaio solo per loro ma se non erano neppure 500 rubli osservò a questo punto Mitia con aria cupa solo che allora non li contai ero ubriaco peccato questa volta Mitia era seduto di lato con la schiena alla tenda ascoltava incupito aveva un'aria afflitta e stanca come se volesse dire dite quello che volete a questo punto fa lo stesso se ne andarono più di 1000 rubli solo per loro Mitri Fiodorovic lo contraddisse duramente Trifomboli si è li buttavate a caso e loro li pigliavano al volo quella gente è una massa di ladri e truffatori ladri di cavalli sono li hanno cacciati di qui se no pure loro forse testimoniavano quanti soldi vi hanno spillato con questi miei occhi vi vidi in mano allora quella somma contarla non la contai certo non me lo permetteste questo è vero ma ad occhio e croce ricordo che erano molti di più di 1500 rubli altro che 1500 ne ho visti di soldi in vita mia saprò pur giudicare riguardo alla somma del giorno prima Trifomboli dichiarò immediatamente che Dmitri Fiodrovic in persona appena sceso dal carro aveva annunciato di aver portato 3000 rubli su via Trifomboli fece protestare media ti ho forse detto proprio di aver portato 3000 rubli lo avete detto Mitri Fiodrovic alla presenza di Andrei lo avete detto ecco Andrei sta lì non se n'è ancora andato fatelo chiamare e poi nel salone quando facevate gli onori di casa con il coro avete urlato che era il sesto migliaio di rubli che lasciavate qui sommando i 3000 dell'altra volta intendevate dire hanno sentito Stepan e Semien eppure Piotr Fomie Calganoff era presente forse se lo ricorda anche lui la testimonianza sul sesto migliaio di rubli produsse un effetto straordinario sugli inquirenti piacque loro questa nuova versione 3 più 3 fa 6 dunque 3000 l'altra volta e 3000 questa fanno 6000 era chiaro interrogarono tutti i contadini nominati da Trifon-Borisier Stepan e Semien il vetturino Andrei e anche Piotr Fomie Calganoff i contadini e il vetturino confermarono la versione di Trifon-Borisier senza esitazioni inoltre verbalizzarono con particolare attenzione quello che Andrei disse a proposito della conversazione avuta con Trimiti Fiodrovic durante il tragitto dove andrò a finire io Dmitri Fiodrovic in paradiso o all'inferno mi perdoneranno in quell'altro mondo oppure no lo psicologo Ippolit Kirillovic ascolta tutto con un sorriso sottile e raccomandò infine che anche quella testimonianza sulla fine che avrebbe fatto Dmitri Fiodrovic fosse messa agli atti convocarono Calganoff e questi entrò riluttante acciliato e di cattivo umore e si mise a parlare con il procuratore e con Nikolai Parfenovic come se lo vedesse per la prima volta in vita sua quando invece era un conoscente di vecchia data e un loro assiduo frequentatore esordì col dire che non sapeva niente e non voleva sapere niente ma pareva che del sesto migliaio di rubli avesse davvero sentito parlare e ammise che in quel momento si trovava proprio accanto a Mitia perché quello che aveva visto i soldi che Mitia aveva in mano erano non so quanti confermò decisamente che i polacchi avevano barato alle carte alle reiterate domande degli inquirenti e gli spiegò pure che dopo l'estromissione dei polacchi i rapporti di Mitia e Agrafena Aleksandrovna erano decisamente migliorati e che ella stessa aveva dichiarato di amarlo di Agrafena Aleksandrovna parlava con discrezione e rispetto come se si trattasse di una signora della migliore società non si permise neanche una volta di chiamarla Grushenka nonostante l'evidente illuttanza del giovanotto a rilasciare quella deposizione Ippolit Kirilovich lo interrogò a lungo e soltanto da lui poteva prendere tutti i particolari che costituivano per così dire il romanzo di Mitia di quella notte Mitia non interruppe neppure una volta Kalganov alla fine lo lasciarono andare e quello lasciò la stanza senza nascondere la propria indignazione interrogarono anche i polacchi chiusi nella loro cameretta anche se si erano coricati non erano riusciti a chiudere occhio e all'arrivo delle autorità si erano vestiti e preparati sapendo che sicuramente avrebbero convocato anche loro si presentarono con aria dignitosa anche se leggermente impaurita il pan più importante quello piccoletto cioè risultò essere un impiegato di dodicesimo livello in congedo aveva prestato servizio in qualità di veterinario in siberia e di cognome si chiamava musialovic invece pan vrubleski era un libero odontoiatra quello che da noi si chiama un dentista sebbene fosse nicolai perfenovic a porre le domande quelli non appena furono entrati nel rispondere alle domande cominciarono a rivolgersi a mica il makarovic che stava in piedi da un lato credendo nella loro ignoranza che fosse la persona di maggiore autorità e grado tra i presenti chiamandolo pan colonnello solo dopo essere stati ripresi alcune volte dallo stesso Mikhail Makarovic capirono che dovevano rispondere rivolgendosi esclusivamente a Nicolai Parfenovic risultò che essi erano perfettamente in grado di parlare correttamente russo tranne che per la pronuncia di alcune parole a riguardo ai propri rapporti passati e presenti con Grushenka Pan Musialovic si espresse con orgoglio e fervore tanto che Mitia perse subito le staffe e gridò che non avrebbe permesso a un mascalzone di parlare in quel modo in sua presenza Pan Musialovic sottolineò subito la parola mascalzone e chiese che fosse messa agli atti Mitia ribolliva di ira mascalzone mascalzone scrivetelo scrivetelo pure e scrivete che a dispetto del protocollo io ho continuato lo stesso a urlare che è un mascalzone gridò Nicolai Perfenovic lo mise agli atti tuttavia in questa spiacevole occasione egli dette prova di grande tatto e discrezione dopo aver severamente ammonito Mitia egli stesso pose immediatamente fine a qualsiasi ulteriore indagine riguardante il lato romantico della faccenda e passò a consolerse al lato essenziale proprio in relazione al lato essenziale è emersa una circostanza alla testimonianza dei Pan che suscitò uno straordinario interesse nei magistrati il tentativo di corruzione perpetrato da Mitia in quella cameretta nei confronti di Pan Musialovic quando gli aveva offerto 3.000 rubli di buona uscita 700 rubli lì sull'unghia e rimanenti 2.500 l'indomani stesso in città Mitia aveva giurato che lì a Macroe non aveva tanto denaro ma che lo avrebbe preso il giorno dopo in città Mitia tentò di ribattere d'impedo che non aveva detto che glieli avrebbe sicuramente dati l'indomani in città ma Pan Vrublevski confermò la testimonianza e lo stesso Mitia poi ripensandoci dovette convenire con aria accigliata che doveva essere andata così come avevano detto i Pan e che in quel momento era davvero sovraeccitato e poteva aver dichiarato una cosa del genere il procuratore si avventò con avidità su quella testimonianza risultava chiaro per l'inchiesta e giunsero dritti a quella conclusione in seguito che metà o una parte dei 3.000 rubli dei quali Mitia si trovava in possesso poteva davvero essere nascosta da qualche parte in città o forse da qualche parte a Mocroe in questo modo si veniva a chiarire la circostanza così delicata per l'inchiesta che addosso a Mitia erano stati trovati solo 800 rubli quella circostanza sebbene isolata e di poco conto tuttavia era stata fino a quel momento in una certa misura a favore di Mitia invece adesso avevano distrutto anche quell'unica testimonianza a suo favore alla domanda del procuratore dove avrebbe preso i rimanenti 2.300 rubli da consegnare l'indomani al Pan visto che asseriva di averne soltanto 1.500 mentre al Pan aveva dato la propria parola d'onore Mitia rispose con fermezza che l'indomani al Polacuccio avrebbe proposto non del denaro ma i propri diritti sulla tenuta di Armashnia quegli stessi diritti che aveva proposto anche a Samsonov e alla Cioclacova il procuratore ridacchiò persino per l'ingenuità della trovata e voi credete che egli avrebbe accettato di prendere quei diritti al posto dei 2.500 rubli in contanti avrebbe sicuramente accettato tagliò corto bruscamente Mitia di grazia qui non si tratta solo di due ma di quattro persino 6.000 rubli che avrebbe potuto beccarsi avrebbe subito chiamato a raccolta ai suoi legulei Polacuccio e Debreucci che fossero e avrebbe strappato al vecchio altro che 3.000 rubli l'intera tenuta di Armashnia va da sé che la testimonianza di Pan Musialovic fu inserita nel verbale in tutti i dettagli dopodiché lasciarono andare anche i due Pan quanto alla truffa con le carte il fatto fu a malapena menzionato Nicolai Parfenovic era loro molto grato e non voleva importunarli con delle sciocchezze tanto più che si trattava sicuramente di una baruffa senza importanza tra ubriachi che giocavano a carte niente di più tanto di Baldoria indecenza se n'era vista un bel po' quella notte e così il denaro quei 200 rubli rimasero nelle tasche dei signori convocarono poi il vecchietto Maximov egli si presentò tutto intimorito camminava a passetti piccoli aveva un aspetto scarmigliato e molto triste per tutto quel tempo egli non si era mai staccato da Grushenka al piano di sotto se n'era stato seduto con lei in silenzio e poco c'era mancato che si mettesse a piegnucolare per lei mentre si asciugava gli occhietti con il suo fazzolettino a quadretti come ebbe a raccontare in seguito Mikhail Makarovic tanto che era andata a finire che era lei a calmare e consolare lui il vecchietto confessò immediatamente tra le lacrime di essere colpevole di aver preso in prestito da Dmitri Fyodorovic dieci rubli o signoria a causa della mia indigenza e che era disposto a restituirli alla domanda diretta di Nikolai Perfenovic se si fosse accorto di quanti soldi esattamente avesse in mano Dmitri Fyodorovic dal momento che egli aveva avuto modo di vedere più da vicino quel denaro in mano sua quando aveva incassato il prestito Maximov rispose con il tono più deciso che erano venti mila rubli o signoria avete mai visto in precedenza la somma di venti mila rubli domandò Nikolai Perfenovic sorridendo come no li ho visti vossignoria solo che non erano venti ma sette quando mia moglie ipotecò il mio villaggetto me li fece vedere solo da lontano se ne vantava davanti a me era un mucchio molto grosso vossignoria tutto di banconote iridate e anche quelle di Dmitri Fyodorovic erano tutte iridate lo congedarono ben presto finalmente arrivò il turno di Grushenka i giudici temevano l'effetto che avrebbe potuto suscitare la sua comparsa su Dmitri Fyodorovic e Nikolai Perfenovic gli sussurra persino qualche parola di ammonimento ma Mitia abbassò il capo come a dire che non avrebbe fatto scenate fu lo stesso Mikhail Makarovic a introdurre Grushenka ella entrò con una faccia cupa e severa sembrava abbastanza calma si sedette lentamente sulla sedia che le fu indicata di fronte a Nikolai Perfenovic era molto pallida sembrava che avesse freddo e si stringeva forte nel suo meraviglioso scialle nero aveva dei leggeri brividi di febbre sintomo iniziale di quella lunga malattia per la quale avrebbe sofferto a partire da quella notte il suo aspetto severo il suo sguardo diretto e serio i suoi modi pacati produssero un'impressione estremamente favorevole su tutti Nikolai Perfenovic ne fu perfino subitaneamente catturato egli stesso ammise in seguito raccontando l'accaduto che sopra allora si era reso conto di quanto fosse bella quella donna dal momento che pur avendola vista anche in passato l'aveva sempre considerata una etera di provincia ai modi di una dama della migliore società dichiarò entusiasticamente spettegolando su di lei in compagnia di altre signore ma quelle accolsero la sua dichiarazione con viva indignazione e lo chiamarono subito birichino il che lo riempì di soddisfazione entrando nella stanza Grushenka sbirciò solo di sfuggita dalla parte di Mitia il quale a sua volta la guardò con apprensione ma l'aspetto di lei lo tranquillizzò subito dopo le prime domande di prassi e i vari avvertimenti Nikolai Perfenovic le domandò seppure con esitazione ma conservando i modi più cortesi che rapporti avete con il tenente in congedo Dmitri Fiodorovic Karamazov anche Grushenka rispose con pacata fermezza era un mio conoscente l'ho ricevuto in casa mia in quest'ultimo mese in qualità di conoscente alle successive domande indagatrici e la rispose senza mezzi termini in piena franchezza che sebbene a volte le fosse piaciuto non lo aveva amato ma lo aveva conquistato per via del suo abominevole rancore come del resto aveva fatto anche con il povero vecchio si era accorta che Mitri era molto geloso di lei per via di Fiodor Paolovic e di tutti gli altri ma la cosa la divertiva da Fiodor Paolovic poi non aveva mai avuto intenzione di andare si era solo presa gioco di lui per tutto questo mese non ho pensato per niente a nessuno dei due aspettavo un altro uomo colpevole nei miei confronti penso soltanto concluse che non c'è affatto bisogno che mi facciate domande a questo proposito né che io risponda perché questi sono solo fatti miei in tal senso agì immediatamente Nicolai Perfenovic smise ancora una volta di insistere sugli aspetti romantici e passò direttamente alle cose serie vale a dire per l'ennesima volta alla questione fondamentale dei 3.000 rubli Grushenka confermò che a Mokroe un mese addietro erano stati davvero spesi 3.000 rubli non che li avesse contati di persona ma aveva sentito dire da Dmitri Fiodorovic che era quella la somma ve l'ha detto in un momento in cui eravate soli o in presenza di altri o l'avete sentito solo mentre lo diceva ad altri in vostra presenza si informò immediatamente il procuratore Grushenka dichiarò di averglielo sentito dire sia a quattro occhi sia in presenza di altre persone a quattro occhi ve lo ha detto una volta sola o più di una volta si informò ancora il procuratore e venne a sapere che Grushenka glielo aveva sentito dire più di una volta Ippolit Kirilovic rimase molto soddisfatto di quella testimonianza con ulteriori domande si chiarì che Grushenka era il corrente della provenienza di quei soldi Dmitri Fiodorovic li aveva presi da Caterina Ivanovna e avete mai sentito anche una sola volta che i soldi spesi un mese fa non erano 3000 rubli ma meno e che Dmitri Fiodorovic ne aveva messi da parte una buona metà no non l'ho mai sentito testimonò Grushenka in seguito emerse addirittura che Mitia al contrario le aveva detto spesso nel corso di tutto quel mese di non avere neanche una copeca aspettava sempre di riceverne da suo padre concluse Grushenka e ha mai detto in vostra presenza o di sfuggita o per la rabbia intervenne a bruciapelo Nicolai Perfenovic di avere l'intenzione di attentare alla vita di suo padre oh sì che l'ha detto sosperò Grushenka una volta sola o diverse volte diverse volte l'ha detto ed era sempre arrabbiato e voi credevate che l'avrebbe fatto no rispose ella fermamente confidavo nella sua nobiltà d'animo signori permettete gridò Mitia all'improvviso permettetemi di dire soltanto una parola ad Agrafena Aleksandrovna in vostra presenza dite pure gli concesse Nicolai Perfenovic Agrafena Aleksandrovna disse Mitia alzandosi dalla sedia abbi fede in Dio e in me del sangue di mio padre ucciso ieri sono innocente detto questo Mitia si risedette Grushenka si alzò e devotamente si fece il segno della croce davanti all'icona gloria a te oh signore disse con voce piena di emozione poi senza sedersi ma rimanendo sul posto soggiunse rivolgendosi a Nicolai Perfenovic credete a quello che ha appena detto lo conosco certo parlo a sproposito per ridere per testardaggine ma non mentirà mai contro la propria coscienza vi sta dicendo la pura verità credetegli grazie Agrafena Aleksandrovna mi hai dato coraggio replicò Mitia con voce tremante alle domande sul denaro del giorno prima e la dichiarò di non sapere quanto fosse ma lo aveva sentito dire più volte ad altri che aveva portato con sé tremila rubli riguardo la provenienza di quei soldi egli le aveva detto a quattro occhi di averli rubati a Caterina Ivanovna e lei gli aveva ribattuto che non li aveva rubati ma che li avrebbe restituiti l'indomani stesso alla insistente domanda del procuratore a quali soldi si riferisse dicendo che li aveva rubati a Caterina Ivanovna a quelli del giorno prima o ai tremila rubli che aveva speso lì un mese addietro e la rispose che si riferiva a quelle che aveva un mese addietro che così aveva interpretato le sue parole finalmente lasciarono andare anche Grushenka e Nicolai Parfenovic la informò con gran premura che era libera di far ritorno in città anche subito e che se poteva esserle di qualche aiuto riguardo ai cavalli per esempio o se desiderava una scorta allora lui da parte sua vi ringrazio sinceramente rispose Grushenka inchinandosi andrò via con questo vecchietto il possidente lo condurrò in città ma nel frattempo se permettete aspetterò di sotto per sapere le vostre decisioni a riguardo a Dmitri Fyodorovic e la uscì Mitia si era calmato e aveva persino un'aria rasserenata che però durò ben poco una strana debolezza fisica andava gradualmente prendendo il sopravvento su di lui ogni minuto di più gli occhi gli si chiudevano per la stanchezza l'interrogatorio dei testimoni era finalmente terminato procedettero alla stesura finale delle deposizioni Mitia si alzò e si spostò dalla sedia all'angolo presso la tenda si straiò su un grosso baule ricoperto da un tappeto e si addormentò di colpo fece un sogno piuttosto strano assolutamente privo di collegamenti con il tempo e il luogo nel quale si trovava egli era da qualche parte nella steppa là dove aveva prestato servizio un tempo e un contadino lo stava conducendo fra la mota sul suo carro tirato da una coppia di cavalli aveva freddo era l'inizio di novembre e la neve cadeva in grossi fiocchi umidi sciogliendosi non appena toccava terra il contadino faceva andare il carro a passo sostenuto schioccava abilmente la frusta aveva una barba lunga biondiccia e non era molto vecchio sarà stato sulla cinquantina e indossava una palandrana grigia da contadino non lontano si intravedeva un villaggio dalle ispe nere nere e metà del villaggio era bruciata spuntavano soltanto le assi carbonizzate all'entrata del villaggio delle contadine si erano messe in fila sulla strada erano monte un'intera schiera tutte magre e maciate con i visi scuri ne notò una in particolare verso la fine della fila una donna ossuta e alta che dimostrava una quarantina da anni ma poteva averne anche venti con il viso scarno allungato che teneva fra le braccia un bimbetto in lacrime evidentemente il suo seno era così prosciugato da non dare più una goccia di latte e il bambino piangeva piangeva e protendeva le braccine nude con i suoi pugnetti come i lividiti del freddo perché piangono per quale motivo stanno piangendo domandò Mitia mentre passavano accanto a loro di gran carriera la creatura gli rispose il conducente la creatura piange e Mitia restò colpito dal fatto che egli l'avesse chiamato a modo suo alla contadina creatura e non bambino e gli piacque che il contadino avesse detto creatura era come se in quella parola si racchiudesse una compassione più intensa ma perché piange insisteva Mitia stupidamente perché ha le braccine nude perché non lo coprono la creatura si è intirizzita i vestitini si sono congelati e non lo tengono caldo ma perché così perché continuava a insistere scioccamente Mitia ma è povera gente la casa è già bruciata non hanno nemmeno un tozzo di pane chiedono le lemosina perché la casa gli è bruciata no no Mitia sembrava non capire dimmi perché quelle povere madri se ne stanno impalate accanto alle case bruciate perché questa gente è povera perché è povera quella creatura perché la steppa è così brulla perché non si abbracciano non si baciano perché non intonano canti di gioia perché si sono così anneriti per la miseria nera perché non danno da mangiare a quel bambino ed egli sentiva che sebbene le sue domande fossero irragionevoli e prive di senso tuttavia desiderava porre proprio quelle domande e di porre proprio in quel modo e avvertiva pure che stava crescendo nel suo cuore un senso di pietà che non aveva mai provato prima che aveva voglia di piangere che voleva fare qualcosa per tutti affinché quel bambino non piangesse più affinché non piangesse più quella madre dal viso nero e dal seno rinsecchito affinché da quel momento in poi non esistessero più lacrime per nessuno e che voleva fare tutto quello all'istante all'istante a dispetto di tutti gli ostacoli con tutta l'impetuosità dei Karamazov anch'io verrò con te adesso non ti lascerò più per tutta la vita egli sentì accanto a sé le dolci parole di Grushenka cariche di sentimento ed ecco che il cuore gli si infiammò ed egli cominciò a protendere verso una luce e aveva voglia di vivere e ancora vivere di procedere ancora e ancora per quel cammino verso quella nuova luce che lo chiamava ma in fretta in fretta in quel momento stesso adesso che cosa dove andiamo esclamò aprendo gli occhi e mettendosi a sedere sul baule come se si fosse ripreso da uno svenimento ma con un sorriso radioso sulle labbra sopra di lui c'era Nikolai Parfenovic che lo invitava ad ascoltare il verbale per poi firmarlo Mitia intuì di aver dormito un'ora e forse più ma non prestò ascolto a Nikolai Parfenovic fu colpito dal fatto di essersi trovato sotto la testa un cuscino che non c'era quando si era accasciato priva di forza sul baule chi mi ha messo questo cuscino sotto la testa chi è stato così buono esclamò in un impeto di entusiasmo e gratitudine e con la voce quasi rotta dal pianto come se avessero compiuto Dio solo sa quale buona azione quell'anima buona rimase senza un nome senza dei testimoni o forse il segretario stesso di Nikolai Parfenovic aveva deciso di poggiargli un cuscino sotto la testa per compassione ma la sua anima era interamente scossa dalle lacrime egli si accostò al tavolo e dichiarò che avrebbe firmato tutto quello che volevano ho fatto un bel sogno signori pronunciò con uno strano tono di voce e con un viso nuovo come illuminato dalla gioia portano via Mitia dopo che il verbale fu firmato Nikolai Parfenovic si rivolse solennemente all'imputato e gli lesse l'ordinanza che stabiliva che in tale anno in tale giorno in tale luogo il giudice istruttore del tribunale di tale distretto dopo aver interrogato la tal persona cioè Mitia in qualità di imputato di questo e quel reato tutte le imputazioni venivano accuratamente elencate e tenuto in considerazione che l'imputato non riconoscendoci colpevole dei reati a lui imputati non aveva presentato prove a sua discolpa mentre i testimoni questo e quest'altro e le circostanze queste e quest'altre lo indiziavano gravemente visti tali articoli del codice penale delibera che al fine di precludere al suddetto Mitia qualsiasi possibilità di sottrarsi all'inchiesta o al processo venga recluso in un istituto carcerario che verrà notificato all'imputato mentre consegna una copia di codesta ordinanza al procuratore aggiunto eccetera eccetera insomma informarono Mitia che a partire da quel momento era agli arresti e che lo avrebbero condotto subito in città dove lo avrebbero rinchiuso in un posto molto sgradevole dopo aver ascoltato con attenzione Mitia si limitò a scrollare le spalle che dite signori non vi faccio nessuna colpa sono pronto capisco che non vi resta nient'altro da fare Nicolai Perfenovic gli spiegò cortesemente che il capodistretto di polizia Navrichi Navrichievic che in quel momento per l'appunto si trovava sul posto lo avrebbe scortato aspettate lo interruppe ad un tratto Mitia e mosso da un sentimento incontenibile rivolgendosi a tutti i presenti nella stanza disse signori siamo tutti crudeli siamo tutti dei mostri tutti noi costringiamo a piangere la gente le madri i neonati ma fra tutti che sia stabilito qui in questo momento fra tutti io sono il rettile più abbietto che sia così ogni giorno della mia vita battendomi il petto ho promesso di fare ammenda e ogni giorno ho commesso sempre le stesse turpitudine adesso capisco ma a quelli come me occorre una batosta una batosta del destino che li catturi come allaccio e li sottometta con una forza esteriore non mi sarei mai mai sollevato da solo ma il tuono ha rimbombato eccetto il tormento dell'accusa e la pubblica ignominia voglio soffrire e dal tormento sarò purificato forse potrò purificarmi signori non è vero tuttavia ascoltatemi per l'ultima volta sono innocente del sangue di mio padre accetto la punizione non per il fatto di averlo ucciso ma per averlo voluto uccidere e forse l'avrei davvero ucciso comunque ho intenzione di combattere contro di voi e di questo vi avverto combatterò contro di voi sino all'ultimo e l'esito lo deciderà Dio addio signori non provate rancore perché ho urlato contro di voi nel corso dell'interrogatorio ero ancora così sciocco allora tra un momento sarà un carcerato ma adesso per l'ultima volta Dmitry Karamazov in qualità di uomo libero vi tende la mano congedandomi da voi mi congedo dagli uomini la voce gli tremava e fece davvero il gesto di tendere la mano ma Nikolai Parfenovic che in quel momento era più vicino di tutti a lui ad un tratto con un gesto quasi febbrile nascose le mani dietro le spalle Mitya lo notò all'istante e trasalì lascio subito cadere il braccio teso l'inchiesta non si è ancora conclusa bobbettò Nikolai Parfenovic come imbarazzato continueremo in città e io naturalmente da parte mia sono pronto ad augurarvi ogni successo per la vostra difesa per quanto vi riguarda personalmente Dmitri Fiodorovic sono sempre stato incline a considerarvi un uomo come dire più infelice che colpevole noi tutti qui presenti se posso osare di parlare a nome di tutti noi tutti siamo pronti a riconoscere in voi un giovanotto fondamentalmente di nobili sentimenti ma ahimè trascinato fino all'eccesso da certe passioni la piccola sagoma di Nikolai Parfenovic alla fine del discorso esprimeva la più profonda gravità Amitia balenò in mente l'idea che quel ragazzo in quel momento l'avrebbe preso a braccetto e l'avrebbe condotto in un angoletto in disparte per riprendere con lui la recente conversazione avuta a proposito di ragazze ma sono molti i pensieri irrilevanti e in contrasto con le circostanze che a volte vengono alla mente persino ai prigionieri condotti alla pena di morte signori voi siete buoni voi siete umani posso vedere lei congettarmi da lei per l'ultima volta chiese Amitia senza dubbio ma è in considerazione insomma adesso non si può se non in presenza ma prego presenziate pure introdussero Grushenka ma l'addio fu molto breve di poche parole e poco soddisfacente per Nikolai Parfenovic Grushenka si inchinò profondamente dinanzi a Amitia ti ho detto che sono tua e sarò tua verrò con te per sempre dovunque decidano di mandarti addio ti sei rovinato con le tue mani pur essendo innocente le sue labbra ebbero un fremito le lacrime sgorgarono dagli occhi perdonami Grushenka per il mio amore per averti rovinato con il mio amore Amitia voleva ancora dirle qualcosa ma si interruppe bruscamente e uscì fu immediatamente cerchiato da persone che non gli staccavano gli occhi di dosso da basso presso il terrazzino d'ingresso al quale il giorno prima era giunto con tanto fracasso sul tiro a tre di Andriei erano già pronti due carri Mavriky Mavrikevich un uomo robusto e tarchiato con la faccia appesantita sembrava irritato per qualcosa per qualche imprevista contrarietà e gridava erosamente ordinò Amitia di salire in carrozza con eccessiva durezza in passato quando gli offrivo da bere in trattoria aveva un'espressione completamente diversa pensò Amitia mentre saliva in vettura anche Trifon Borisovie era sceso giù dal terrazzino presso il portone si accalcava un mucchio di gente contadini popolane vetturini e tutti fissavano Amitia addio popolo di Dio perdonami gridò loro ad un tratto Amitia dal carro perdona anche noi si udirono due o tre voci tra la folla addio anche a te Trifon Borisier ma Trifon Borisier non si voltò neppure forse era molto impegnato anche lui sbraitava e si agitava per qualcosa risultò che nel secondo carro sul quale due agenti avrebbero dovuto scortare Mavricchi Mavricievich non era tutto in ordine il contadinuccio al quale avevano ordinato di guidare il secondo carro si stava infilando la palandrana e protestava vivacemente che non toccava a lui andare ma ad Achim ma Achim non si trovava erano corsi a cercarlo e il contadinuccio insisteva implorando che aspettasse Achim ecco com'è il popolo da noi Mavricchi Mavricievich tutti svergognati esclamò Trifon Borisier Achim tre giorni fa ti ha dato venticinque copeche e tu te le sei bevute e adesso strepiti mi inverveglio soltanto della vostra indulgenza verso questo nostro popolano meschino Mavricchi Mavricievich vi dico soltanto questo ma a che ci serve un secondo carro fece per dire la sua mitia andiamo con uno Mavricchi Mavricievich non farò scenate non temere non tenterò di fuggire da te a che ci serve la scorta vi prego signore di imparare a parlarmi come si deve se non ve l'hanno ancora insegnato per voi io non sono tu quindi prego vos signoria di non darmi del tu e anche i consigli teneteveli per un'altra occasione replicò a Mavricchi Mavricchievich quasi contento di scaricare su di lui la propria collera Mitya tacque era diventato tutto rosso per un attimo avvertì di nuovo una sensazione di gelo la pioggia era cessata ma il cielo grigio era ancora coperto di nuvole un vento tagliente soffiava dritto in faccia che saranno questi brividi che mi prendono si domandò Mitya stringendo le spalle finalmente anche Mavricchi Mavricchievich salì sul carro si lasciò cadere pesantemente con invadenza e sembrò non prestare attenzione al fatto di avere schiacciato Mitya in un angolo certo non era di buon umore e gli era molto sgradito il compito assegnatoli addio Trifon Borisier gridò di nuovo Mitya e si rese conto da solo che non lo stava salutando di nuovo per gentilezza ma che aveva urlato il saluto per rabbia contro il suo stesso volere ma Trifon Borisier restava piantato pieno di orgoglio con le braccia incrociate dietro alle spalle e fissava Mitya dritto negli occhi il suo sguardo era severo e risentito ma non rispose al saluto di Mitya addio Mitya Fiodorovich addio si levò improvvisamente la voce di Kalganov saltato fuori all'improvviso da qualche parte giunto di corsa presso il carro e gli tese la mano a Mitya era senza berretto e Mitya fece appena in tempo ad afferrare e stringere la sua mano addio buon uomo non dimenticherò la vostra magnanimità gridò con fervore ma il carro si mise in cammino e le loro mani si separarono la campanella la campanella cominciò a tintinnare portarono via Mitya Kalganov corse nell'andito si sedette in un angolo abbassò la testa si coprì il volto con le mani e scoppiò a piangere rimase un bel pezzo lì seduto a piangere piangeva come un bambino e non come un uomo di vent'anni egli non aveva quasi dubbi sulla colpevolezza di Mitya che uomini sono questi che cosa possono essere gli uomini dopo questo gridava queste frasi prive di senso in uno stato di profonda afflizione quasi di disperazione in quel momento non aveva nemmeno più voglia di vivere ne vale la pena ne vale la pena si domandava al giovane nella sua amarezza grazie a tutti Grazie a tutti.